Ci siamo? Eccoci qua. Elisabetta è arrivata, la vera Sgarbi. Allora, abbiamo iniziato lo streaming, quindi buonasera a tutti quanti quelli che si collegano ora sullo streaming, buonasera a voi che siete venuti nella seconda sessione delle tavole rotonde, baci e abbracci tra gli sgarbi. Vittorio? Siccome siete venuti come al solito in maniera puntuale, saluta. Allora, Vittorio Sgarbi non ha bisogno di presentazioni, non abbiamo tempo di perdere. Qui è il tuo microfono perché tu hai preteso questo microfono. È un caro amico, è diventato purtroppo un uomo delle istituzioni, quindi oggi sarà molto moderato, riuscirà ad avere un atteggiamento istituzionale governativo, non dirai cose sbagliate, corretto Vittorio? E ci parlerai di Canova. No, Canova e come tutte le ripartenze lo sanno quelli che ci ascoltano in streaming, in questo momento stanno vedendoci tutti quanti in streaming, sai quella roba là, hanno visto le tue straordinarie performance sulle ripartenze, vediamo come te la cavi oggi con Canova. Dove vuoi andare? Non ce ne sono ragazze moldave, vieni qua, Vittorio. Vittorio? No, ma vieni qua. Guido, porti la ragazza moldave e la mamma qua. Vieni. Ma come sei di pessimo umore? No, venire qui per parlare del Petruzzelli, siamo a Bari qua, no? No, siamo all'IBM Studios e parliamo di Canova. Non ho guardato dove andava l'automobile. No, lo sai bene. No, a Bari lo facciamo a luglio. E dove c'era quello lì, ricco, Montclair? Quello era sempre a Bari. Ecco, ecco la ragazza moldava, con la mamma. Benissimo, è tutto sotto controllo. Quindi il tema è l'energia. Noi stiamo parlando di energia, come tu ben sai, e il tema tuo di oggi è Canova e lo sai bene perché ci sono tutte le... Pensavo fosse lo stadio Meazza, no? No, non è quello. Quello sei a favore, no? A favore dello stadio, sì. No, a favore della distruzione, renderlo al suolo e fare come all'Uvra, cioè che si cambia un po' un piramidi, novità, innovazioni. C'era Scaroni questa mattina? Ecco. Non te l'ho fatto incrociare. No, invece volevo dire che, tanto per darti, e lo saprai già perché sei un giornalista, eri un giornalista, no? Ero. Direttore di Panorama sei, no? No. Va bene. Direttore dell'Unità. Beh, comunque detto questo, qual era l'affare principale di Matteo Messina Denaro? Porca miseria. No, vorrei sapere qual era l'affare principale, quello che lui ha vissuto i suoi trent'anni di latitanza e ventiquattro... Spaccio di droga? No. Eolico. Eolico e fotovoltaico. No, tanto per dire. Non lo volevo dire niente. E chi l'ha detto per primo? Questo è vero. Le intercettazioni fondamentali, soprattutto per questioni erotiche, non sono quelle che più di tutte interessano. Arrivarono un giorno a intercettare in carcere con un personaggio che gli era stato avvicinato, aveva fatto come amicizia con lui, Totorina, quando era vivo. E lui disse che avrebbe voluto uccidere di Matteo, cosa presa sul serio, e in effetti hanno dato una scorta, carri armati, potentissime forme di scorta di Matteo, su una minaccia che veniva da un uomo che era stato potente e non so fino a che punto lo potesse essere dal carcere. La seconda cosa ha detto quel Matteo Missina Dinari che vive con i pali elettrici e eolici e lo ha dichiarato. Nessuno ha seguito questa indicazione, che invece era una fonte, era una dichiarazione non di un pentito, perché il pentito non fu Totorina, ma era un dialogo con una persona che sembrava di fiducia. Ora, l'idea che io dico da sempre, che nell'area dove sono stato sindaco è cacciato con lo scioglimento del comune, totalmente ingiusto perché ci sarebbe stata un'ingerenza mafiosa, erano tutti al cimitero. Quelli vivi invece si occupavano di montare paleoliche. Lo dico per farti pensare a cosa credo io delle paleoliche, che siano non solo inutili in un giorno di pioggia, senza vento, senza sole, paleolico e fotovoltaico, parimenti, ma che erano l'affare principale di Matteo Messina Denaro. E se uno fa un affare in quel modo in Sicilia, non è detto che non abbia anche altri terminali. Detto questo, era questo l'argomento? No. Casanova? No. Perché Canova poi? Canova perché, come sapranno pochi di quelli che sono qui, ma così lo sanno, è consuetudine delle istituzioni celebrare i centenari. Allora, io ho celebrato qualche giorno fa i novant'anni del presente della Cavagna, anticipando... Eravamo insieme. Alla mese di febbraio celebrerò gli ottant'anni di Giancarlo Giannini. Siete i primi a saperlo. Poi celebrerò in aprile Anthony Hopkins e in maggio Robert Redford. Ma tutti a Roma in quella stanza? Tutti a Roma no, perché arrivano quelli che invito. Ecco, detto questo, le celebrazioni in vita e più facilmente le celebrazioni in morte cadono nei centenari. Abbiamo vissuto il centenario di Raffaello, che è morto nel 1520, celebrazioni. Abbiamo vissuto il centenario di Leonardo, morto nel 1519. Avremo davanti a noi il centenario Verugino, che è morto nel 1523. Avremo il centenario della Duse, che è morto nel 1924, per cui sono tutti morti. Tra questi morti, nel 1822, cioè 201 anni fa, è morto anche Canova. E quindi abbiamo istituito un comitato che io presiedo, così come presiedo il più singolare museo, il più completo museo, più anche degli essiccatoi di Burri a Città di Castello, che sono tre cantiche con le opere insieme a quelle che sono nel palazzo in città di Burri, che ha un museo lui stesso, avendolo costituito nella città dove è nato, che è Città di Castello. E l'altro museo che ha una analoga completezza è la Gipsoteca di Possagno, di cui sono presidente. Per cui in quella Gipsoteca ci sono tutti i gessi di quest'autore. In occasione di questo centenario sono state fatte diverse mostre, una delle quali particolarmente suggestiva, fatta al Mar di Roveretto, che io presiedo. Quante cose fai? Faccio una cinquantina di cariche. E tutto è gratis? Non ti pagano? Credo neanche qui. No. Allora posso anche andare. No! Ma posso avere dei buoni pranzo, così per invitare degli amici, delle ragazze moldave, delle ragazze ucraine, anche delle ragazze russi di nascosto? Beh, sono imbargate. E però hai anche fatto un libro su Canova. No, allora, nel contesto di questa celebrazione abbiamo fatto diverse mostre, ma diciamo il luogo eminente per Canova è appunto Possagno, che è una piccola città vicina a Bassano, vicino ad Asolo, dove il fratello di Canova volle portare tutte le opere concepite dal fratello e di cui ci sono i gessi, che stavano a Roma. Quindi ha fatto e ha costituito questo museo che è meraviglioso, che vi invito a vedere, che ha fatto alcune mostre, anche quella della cappella funebre di Berlusconi. Come sai? Funebre, insomma. Funebre, funebre. Io sono vivo, anche tu, possiamo dire. La vita finisce. No, no, tu rimani. E allora, ecco, ecco, la ragione dell'incontro su Canova è legata a questi elementi esterni. La ragione ultima, ingloba anche Berlusconi per quello che vi dirò, sia pure in maniera occasionale, e la ragione di questa giornata è che dopo aver fatto molte edizioni di una ripartenza o di una partenza o di un movimento, quale che sia, al Petruzzelli di Bari, nell'ultima io ho fatto una breve conversazione su Canova, su Raffaello. Cosa c'è? Indichi col dito. Su Raffaello, che è molto piaciuta a Porro, che non sapeva chi fosse Raffaello, ma ha capito improvvisamente. E allora ha detto, dopo Raffaello facciamo Canova. Tutto questo andava in sequenza, perché sono anni che noi seguiamo centenari. Appunto, nel diciannove ci fu il centenario della morte di Leonardo da Vinci, con una grande mostra fatta a Louvre. La mostra di Raffaello fu fatta invece alle scuderie del Quirinale, in occasione della morte di Raffaello nel 2020. E in questo inseguimento di centenari si è arrivati anche a Canova, e quindi con un procedimento abbastanza ampio e articolato, per ragioni che sono legate a una considerazione meno universale del suo genio, che era comunque un genio universale, pensando che appunto geni sono Giotto, Piero della Francesca, Raffaello, Leonardo, Michelangelo, e poi puoi trovarli ancora, Bosch. Ma su Canova uno può avere qualche riserva. Credo che questo sia il momento per dissipare quella riserva, anche partendo dalla riserva principale. Ma è vero che nell'empito delle celebrazioni si iniziò con una certa rincorsa nel 2019, perché nel 2019 capitò qualcosa di singolare, che Canova sentì il richiamo della foresta, cioè il richiamo di casa sua, il desiderio di tornare dove era nato, cioè a Possagno, in provincia di Treviso, e mise lui la prima pietra del suo sepolcro, che non è quello reale, ma è comunque un tempio, quindi non è una tomba, ma è un'architettura, ispirata al Pantheon, che è il Tempio di Possagno. Si celebrò in quel 2019 il primo atto a cui conseguirono una serie di iniziative, che quindi hanno reso molto ampio il percorso delle celebrazioni canoviane, perché si è cominciato con la celebrazione del Tempio di Possagno e si è continuato con alcune importanti mostre, come una inevitabile su quello che è il genio della sua stessa invenzione, cioè il mondo antico, e si è fatta una mostra su Canova e l'antico al Museo Nazionale di Napoli. Subito dopo si è fatta una mostra a Roma, sul luogo naturale dove lui ha concepito la sua stessa visione universale, che è Roma, fatta al Palazzo Braschi, anche quella tra 19 e 20. Poi arrivò il Covid, ma nel frattempo non mancò Milano con una mostra tra lui e il suo nordico, come dire, antagonista, che si chiama Torvalsen, ed è stata fatta alle Guerrieri d'Italia in piazza della Scala. E siamo arrivati al 2021. Alla fine del 21, nell'altro museo di cui sono presidente, che è il Museo di Roveretto, io ho fatto un affondo con una mostra molto suggestiva, che in qualche modo completava l'inizio con Napoli, ed era, ed è, Canova e il contemporaneo. Che è difficile dire per un autore così solenne, così classico, in che modo Canova ha rapporti col mondo contemporaneo? Io ho pensato, per una ragione che tutti voi, per quelli che ambiano nozioni di Canova, possono vedere dal supporto della sua opera, che al 90% è gesso o marmo, che lui è un artista in bianco e nero, che una meravigliosa riproduzione della sua opera può essere un libro in bianco e nero, o un libro a colori che porti effetti in bianco e nero. Quindi lui è come un film in bianco e nero. E allora cos'è che in bianco e nero rappresenta la sensibilità moderna, 18 anni dopo la morte di Canova, quando nasce la fotografia? La fotografia. E quindi il primo collegamento che io ho immaginato era quello fra Canova e i fotografi. E pensando ai fotografi, evidentemente non ho pensato ai suoi contemporanei e quelli che lo hanno immediatamente seguito negli anni 40, 50, 60, dell'Ottocento, ma i fotografi più vicini a noi. E quindi ho pensato che, ed era l'entrata dell'ambiente principale, dove poi è stata fatta la mostra di Vangi, e in questo momento c'è la mostra di Giotto, Giotto del Novecento a Rovereto, in quel bellissimo museo di Botta, ho immaginato di mettere alcuni gessi di Canova e sul fondo delle fotografie di nudi femminili meravigliosi, ma nevrotici, drammatici, potentemente contrastati, di Helmut Newton. Se voi collegate questi due mondi, quello della perfezione di Canova e quello della determinazione brutale di Newton, capite che si può andare avanti, fare non solo Canova e l'antico, ma anche Canova e il contemporaneo. E quindi come secondo elemento, con una connotazione in parte connessa anche a una singolare, questa è una natura morta caravaggesca, a una singolare inclinazione del mondo omosessuale per Canova, inclinazione che potremmo studiare sul piano psicoanalitico. Tutti gli studiuti di Canova, salvo uno, hanno una propensione omosessuale, a partire da Winckelmann, assolutamente, come dire, naturale, come se Canova chiamasse o anticipasse quell'attualità del mondo omosessuale. Ma è singolare che l'artista che io ho immaginato più in dialogo con lui nell'attualità sia Maplethorpe. Quindi inizialmente la mostra era addirittura la volontà di mettere alcune sculture di Canova e alcune fotografie di Maplethorpe, il quale ha fatto dei corpi perfetti, ma in evidentissima dimensione omosessuale e perfino anche sadica o masochistica. Per cui la mostra si è costruita con molto ardimento e molto divertimento. Fino ad arrivare a quello che io ritengo il fotografo più drammatico e meno canoviano, ma tale da esporre come corpi da obitorio nelle loro teste o nei loro busti, nudi e già morti, che si chiama Witkin. Chi ricorda questo grande fotografo, che portavamo quando ero sessore a Milano, anche a Milano, sente come il mondo di Witkin sia un antimondo rispetto a quello di Canova, ma basato su un principio funerario, ricordate questa parola, analogo. E l'altro è Saudek. E poi sono arrivato a Lisetta Carmi, che è la prima che ha rappresentato il mondo gay, con fotografie memorabili, morta da poco, definita a Cisternino in Puglia, luoghi ben conosciuti da Porro, dove è diventata induista e si è volta a religioni remote e orientali, dopo essere stata una grande fotografa, direi porzorella, tra l'altro di un artista astratto che si chiama Carmi, come lei, che era l'artista prediletto tra i viventi di Umberto Eco. Insomma, sono considerazioni assolutamente, come dire, eterogenee. Per dire però che la mostra si era molto arricchita di continui collegamenti alla contemporaneità, che rovesciano lo spirito classico di Canova, ma lo interpretano come un motore anche di reazioni. E quindi la scultura del Novecento poteva trovare un suo continuatore in uno scultore notturno e non mai apollineo, ma sempre saturnino e bionisiaco, che è Adolfo Wilt, milanese e grandissimo. Quindi voi percorrevate questa mostra, che è stata tra le più riuscite della mia volontà, di creare a Roveretto un luogo dove si dimostra che tutta l'arte è contemporanea, da Giotto a Raffaello a Botticelli. Botticelli e la Ferragni ne sono la misura più chiara. Quando la Ferragni si mette davanti alla primavera di Botticelli, non solo determina un'eccitazione formidabile del direttore tedesco che vede questa bella ragazza italiana, ma soprattutto intende la possibilità di comunicazione verso un mondo che magari è estraneo ai musei della loro conformazione, ma vede improvvisamente raggiungere quegli spazi da una figura come la Ferragni. E quindi il tema della modernità e il tema della contemporaneità non può essere lontano dall'attualità eterna delle opere d'arte. E quindi la mostra che iniziò questo percorso fu una mostra di Caravaggio, con un capolavoro che è il seppellimento di Santa Lucia, che sta a Siracusa, dove si vede il sentimento più profondo della morte e della inutilità, perfino della santità, con un fondo informale che è esattamente un'opera di Burri, rappresentata nel 1608 da Caravaggio, e il corpo della povera santa buttata per terra nel fango, identico al corpo straziato di Pasolini. Quindi in quella mostra il gioco fu mettere, l'opera originale è anche un duplicato formidabile, fatto da una società capace di ingannare nella riproduzione in 3D lo sguardo di chi vede una riproduzione e non capisce che è tale, e quindi mettere l'originale, la sua copia perfetta, e poi Burri, e poi Erman Nitsch, e poi Nicola Verlato, a cui ha affidato la realizzazione di un dipinto grande come quello di Caravaggio con la morte di Pasolini, il teatro della morte di Pasolini, e poi Burri. Per cui Rovereto è diventato il luogo di sperimentazione di un annullamento del tempo, nel senso che il tempo dell'arte è un tempo contemporaneo, eternamente contemporaneo, percorsi e ricorsi, e riferimenti, non per caso i momenti più importanti dell'arte italiana moderna, si chiamano rinascimento, che vuol dire che qualcosa rinasce, e neoclassico, che vuol dire che il classicismo appare eterno se Canova ne è l'estremo rappresentante. Ma oltre a questo, e oltre a quello che si consacra in una contemporaneità che ogni espressione d'arte mostra nel proprio tempo, c'è anche quello che tu lanci verso il futuro. Allora immaginare Canova proiettato verso il futuro è molto complicato, è molto difficile, è anche poco mostrato, nel senso che sono stato forse il primo a avere l'ardimento di fare i collegamenti che vi ho detti. Anche se poi in realtà l'intuizione di rendere eterne le immagini di Canova è passato della testa di fotografi contemporanei. vorremmo dire che si può oggi anche sull'indicazione del Ministro della Cultura dire di Canova un'altra cosa. Canova è di destra o è di sinistra? E Giotto è di destra o di sinistra? E Manzoni è di destra o di sinistra? E Raffaello è di destra o di sinistra? L'azzardo di San Giuliano era quella che lui ha detto una sgarbata, cioè una provocazione. Alle mie provocazioni sono diverse dalle sue perché tendono a dimostrare qualcosa in cui alla fine io avrò ragione. Nel caso di San Giuliano il caso di San Giuliano nel caso di San Giuliano il caso di San Giuliano è un'ipotesi, insomma, ecco. Perché è vero che Dante è di destra, no? E Canova è di destra e Porro è di destra. Cioè se sei di destra Porro potranno non essere di destra Canova? Scusa, se sei di destra tu che sembra un ragazzo moderno e inganni il popolo tu inganni il popolo. Lui è Porro è il volto buono della destra dove tu lo vedi sembra uno che cazzeggia così invece cioè lui è l'anti Berlusconi così Berlusconi lo licenzia perché Berlusconi si vede che tenta lui invece riesce soprattutto nel campo erotico dice cambio argomento torna indietro anche voi ma visto che c'è tua moglie volevo raccontare quella volta ti ricordi che siamo andati con quelle due quelle due ragazze moldave ti ricordi? Non ti ricordi? No, no questo come succede poi pensavo che eravamo soli insomma detto questo Allegra sa che è falso è di destra e qualche giorno fa qualcuno mi ha telefonato chiedendomi di questa battuta perché subito dopo il ministro io ho detto beh valuteremo se Canova è di destra o è di sinistra certo è un tema complesso perché se destra e sinistra nascono nascono più o meno in quel tempo quando la restaurazione ricompone il mondo che era stato sconvolto da Napoleone quindi potremmo immaginare di parlare di destra e sinistra intorno al 1815 Canova c'era ma il tema di Canova come il tema di Giotto come il tema di Dante non può essere se non sul piano di Dascalico proposto con le misure delle competizioni che hanno senso solo in democrazia per questo parlare di destra o di sinistra risulta una provocazione magari di uscita perché destra e sinistra ci sono dove esiste un posizionamento dove c'è un parlamento in cui ci sono le componenti ora per gran parte della storia non c'è stata democrazia quindi non si poteva dare destra o sinistra c'era un solo grande centro che è il centro del potere e quindi da questo punto di vista potremmo chiarire sul piano dialettico sul piano anche diciamo di intuizione o di provocazione la indicazione di San Giuliano apparentemente infatti Canova è un conservatore che è parola più complessa che ha un'articolazione abbastanza singolare perché nel mondo politico conservatore riguarda una contrapposizione con chi invece è progressista quindi è un campo limitato e parziale nel mondo della cultura e nel mondo dei beni culturali in particolare che nasce con l'intuizione di Spadolini uomo di centro di creare un ministero della conservazione la conservazione è la condizione naturale il dovere di chi si occupa di beni culturali conservare è un valore assoluto e quindi in quel mondo il conservatore sul piano delle idee San Giuliano trova il campo d'azione del conservatore che è qualunque sovrintendente Bianchi Bandinelli che era comunista era un conservatore qualunque grande storico dell'arte è un conservatore anche se è di sinistra e quindi si crea una confusione dialettica abbastanza complicata anche sul piano diciamo della definizione della parola per cui la parola conservatore è una parola totalmente positiva nel nostro mondo conservare è il nostro dovere il nostro obiettivo è la nostra missione quindi una pienezza semantica che del mondo invece della democrazia diventa una posizione partigiana di una parte ma tutto questo non vale per Dante e non vale per Canova se non per semplificazione Canova abbiamo detto si può guardare proiettato verso il futuro e quindi ecco Mapletor ecco Newton ecco Witkin ecco Saudek e si può immaginare anche proiettato verso il passato perché i suoi modelli sono i modelli della scultura classica nella quale c'è una rianimazione o c'è un congelamento il congelamento è conservativo e l'animazione invece è progressista tutto questo convive in Canova in Canova c'è conservazione e rianimazione c'è un mondo che si ritrova e che viene ripetuto lo vedremo nelle nostre immagini e un mondo invece che si slancia in avanti allora i primi che hanno dato un'interpretazione moderna di Canova sono fotografi e tutto questo comincia quando nel 1957 si accinge a celebrare un altro secondo centenario quello della nascita perché gli artisti hanno centenari della nascita centenari della morte da qualche tempo ricordano solo quelli della morte la morte di Dante la morte di Eleonora Duse la morte di Perugino la morte di Leonardo la morte di Raffaello la morte di Canova però può accadere che un grande artista come Mattia Preti abbia morte e vita molto vicini così io che ho un'età piuttosto avanzata sono stato in grado di celebrare morte e vita di Giorgione che è nato nel 1478 ed è morto nel 1510 l'ho celebrato nel 78 e nel 2010 e così vale anche per Raffaello che è nato nel 1483 ed è morto nel 1520 e questo vale anche per Mattia Preti che è nato nel 1613 ed è morto nel mille e anzi è nato ed è morto nel 1699 quindi è accaduto che nel 1999 fossi presidente del comitato per il terzo centenario della morte di Mattia Preti pittore per chi non lo conosce tra i primi caravaggeschi calabrese che ha molto lavorato a Malta proseguendo l'impresa di Caravaggio che ha lasciato due opere a Malta mentre Mattia Preti le ha lasciate 400 500 ha coperto Malta interamente coperta di opere di Mattia Preti però se nel 1999 io celebravo il terzo centenario della morte nel mille nel 2013 celebravo il quarto centenario della nascita quindi sono stato in grado di comprendere nascita e morte in due date ravvicinate questo non mi sarà possibile per Canova perché posso darvi la notizia che io nel 2057 nonostante mia sorella sarò morto non lo dico con grande simpatia perché non è detto che io non arrivi come che so la sorella di Borrelli a 103 anni io nel 2057 avrò 105 anni è improbabile questo lo lascio registrato quando arriveremo a quella data che io sia presente sarò presente saremo tutti felici vedremo arrivare uno con la barba bianca dice quello è Sgarbi era Sgarbi è stato Sgarbi sarà Sgarbi non muore mai d'altra parte uno tra i viventi tra gli uomini non è morto si chiamava Gesù quindi potrebbe capitare anche un secondo non è che io dispero che mi possa capitare però nel 2057 io avrò 105 anni l'altro giorno ho trovato un'altra che ha 103 anni chi era? no ce lo siamo detto va bene tu sei del 1977 cosa sei tu ci sarai tu va bene detto questo continua mia sorella Canova è nato nel 1757 quindi siamo in un momento in cui l'Italia era uscita dal fascismo e in cui anche Canova è uscito dal fascismo perché essendo morto nel 1822 e morto il 13 ottobre nell'ottobre del 22 capitò qualcosa che qualcuno ricorda ci fu la marcia su Roma anche Canova ha fatto una marcia su Roma da Possagno da Venezia dove aveva iniziato a lavorare arriva a Roma e gli scopre che il mondo perduto e il mondo presente sono a Roma lui lì sente che è la propria vita ecco 103 anni ce li ha anche la vedova di Ciampi quindi andando nell'ordine c'è la sorella di Borredi e la vedova di Ciampi e io quando ce li avrò ma nell'ipotesi di questa remota e improbabile opportunità dobbiamo immaginare com'era l'Italia del 1922 era un'Italia in cui si poteva celebrare Canova ma altre pressioni altre situazioni impegnavano il governo e quindi abbiamo notizie e un bel manifesto del 1922 che non ci dicono molto sulle celebrazioni quindi passa il tempo cade il fascismo e arriviamo al centenario della nascita non della morte che è il 1957 che è il secondo centenario della nascita è importante partire di lì perché di quel momento restano alcune immagini che sono la mostra che fu fatta non a Possagno dove è inutile fare la mostra perché c'è un enorme aula che si chiama Ala Lazzari che contiene l'intera opera chi voglia conoscere Canova in una giornata va a Possagno e vede tutte le sue opere dal 1775 fino alla sua morte che sono raccolte dove il fratello di Canova volle portarle come risalendo dalla nella vita verso la morte tra l'altro Canova è morto più giovane di me perché io ho 70 anni e lui è morto a 65 ma nel sentire la morte avvicinarsi lui iniziò a fare questo tempio bellissimo che era un panteon portato della campagna veneta e il fratello portò tutti i suoi gessi che vogliono dire tutta la sua opera l'intera opera perché il marmo è una realizzazione fatta dello studio da alcuni collaboratori per poi farla rifinire a Canova di gessi che invece lui compone con la sua intuizione quindi il gesso è l'opera originaria di Canova e ancora prima il bozzetto in terracotta tutto questo è costituito per sempre in un museo e in una mostra eterna che è quella di Possaglio quindi il tempio dove è sepolto il museo e anche la casa dove è nato che io ho fatto da presidente del museo restaurare per riportarla alla sua semplicità una semplicità di una casa non povera non contadina ma senza nessun elemento di lusso che oggi è arricchita da alcune sculture di Canova però cos'era capitato nel 1957 in democrazia con studi di storia dell'arte molto avanzati era capitato che il più importante storico dell'arte del momento potremmo dire lo sgarbi del tempo ma ancora più importante di me che si chiamava Roberto Longhi che sarebbe morto nel 1970 nel 46 ebbe l'estero di fare una sua dichiarazione che poi influenzò tutto il mondo dell'arte perché veniva da una persona così autorevole diciamo che l'autorità di Longhi inizia negli anni 30 quando lui diventa ordinario di storia dell'arte a Bologna e si trova in una singolare emergenza sempre legata alle celebrazioni che nel 1933 cade il quarto centenario della morte di Ariosto che era nato come tutti sapete era morto nel 1533 quindi nel 1933 si potevano fare conferenze discorsi commemorazioni Italo Balbo invece e il padre di mia zia che si chiamava Forti che era il presidente della provincia di Ferrara decidono di fare una mostra sul rinascimento rinascimento piccolo il rinascimento ferrarese poco conosciuto con autori che si chiamano Cosmetura Ercole De Roberti Francesco Del Costa D'Osso Dossi Garofalo Scarsellino Ortolano Mazzolino figure di artisti meravigliosi sognanti surreali metafisici però sconosciuti e sarebbe stata una mostra di un rinascimento provinciale rispetto al grande rinascimento che è quello toscano o fiorentino e quello veneziano se Roberto Longhi non avesse in quell'occasione fatto un libro che è un commento alla mostra che si chiama Officina Ferrarese è un capolavoro della storia dell'arte in cui si racconta la grandessa dei ferraresi paragonandoli a Leonardo e innalzandoli al rango cui oggi tutti li riconoscono in tutti i musei la scuola ferrarese oggi è riconosciuta anche con la conferma di un nemico di De Chirico che consacrò la metafisica che tutti avete in mente a Ferrara proprio nel 1916 e quindi qualcosa di metafisico in questa città deserta in questa città vuota in questa città silente in questa città della bellissima poesiera di D'Annunzio città del silenzio unisce la pittura del rinascimento Roberto Longhi e De Chirico e determina un effetto Ferrara che è la Ferrara di Clorestano Bancini di Antonioni una città vuota deserta con i gatti azzurri come ricordava Montegna un luogo meraviglioso per morti io sono di Ferrara ma non c'è un solo ferrarese che non sia scappato per ragioni evidenti ma insomma la città è meravigliosa è un sogno la città diventa poi un luogo centrale della civiltà del rinascimento italiano con questa mostra per il commento di Longhi l'Officina Ferrarese fra qualche settimana il 16 di febbraio siete invitati tutti anche Porro nel mio ruolo di presidente di Ferrara Arte un altro ruolo e anche di sottosegretario a una celebrazione del novantesimo di quella mostra con una grande mostra che sarà in quattro tappe che si chiama L'inascimento a Ferrara e che inizia con i due più grandi Ercole De Roberti e Lorenzo Costa uno dei cui capolavori è alla Pinacoteca di Brera e verrà alla Pinacoteca di Ferrara ed è una pala sublime il più bel dipinto del mondo che sta a Brera e questo autore di cui forse nessuno di voi ha memoria o lucida intuizione che si chiama Ercole De Roberti su questo però lo dico per dire come Longhi è riuscito a far diventare un'arte dimenticata un'arte fondamentale nella storia dell'arte italiana e nel 1946 fa una cosa analoga dopo quello che potete vedere nell'esperienza al Quirinale delle opere salvate dalla guerra grazie a sovrintendenti straordinari che hanno ricoverato a Sasso Corbaro a Urbino ovunque i capolavori che rischiavano ad essere distrutti durante la guerra finita la guerra nel 1946 a Palazzo Ducale si fa una biennale non di arte moderna come la biennale che tutti conoscete ma la biennale l'arte antica esponendo cinque secoli di pittura veneziana che era stata nascosta durante la guerra e che riappariva in quell'occasione nel 1946 il curatore era Pallucchini un illustre studioso di arte veneta di cui non dico cose divertenti perché abbiamo poco tempo arriva Roberto Longhi con la sua intuizione sempre geniale straordinaria e scrive un altro libro come officina ferrarese cioè un commento alla mostra che si chiama Viatico per cinque secoli di pittura veneziana e voglio dire la pittura che parte da Paolo Veneziano una sorta di giotto veneziano e arriva fino a Canova quando arriva Canova gli girano i coglioni perché era un tipo così che aveva dell'antipatia un tipo che decideva di stroncare anche il passato non solo il presente quindi stronca Tintoretto perché dipinge troppo veloce Tiepolo perché fa della carta da pacchi gli stanno proprio sulle palle e Canova perché gli appare uno scultore da cimiteri e dice Antonio Canova lo scultore nato morto la cui mano è all'accademia il cui cuore ha i frari dove è sepolto e il resto non so dove questa epigrafe è come una lastra tombale che cade sulla testa di tutti i trevisiani i romani tutti i canoviani i quali quando celebrano nel 57 il secondo centenario della nascita hanno davanti questa specie di minaccia longhiana e siccome Longhi è così importante non possono ignorarlo e il direttore dei musei di Treviso che si chiama Goletti dice beh effettivamente una persona molto importante ha detto lo scultore nato morto fatto a pezzi col cuore là e cerca un alibi per giustificare il povero Canova che era comunque morto quindi il giudizio universale di Longhi impone di giustificare Canova e da quel momento comincia la sua rinascita perché la prima mostra che avviene a Treviso non a Possagno dove il museo era costituito è una mostra che è fatta in questo modo numero 3 siamo nel 1997 al museo civico di Santa Catarina a Treviso dove la mostra è fatta vedete quelle piantine quelle fanno capire l'Italia povera di quegli anni quelle piantine per terra il piede e poi le fotografie nessuna scultura e questa sala così come una piccola scenografia teatrale ha rappresentato le celebrazioni con il discorso di Luigi Coletti il direttore del museo che è un discorso pieno scusate se ce ne vediamo Canova scusate lo scultore è nato morto scusate scusate ci dispiace è morto ce ne vediamo qua figlio della croce insomma doveva essere deve essere stato meraviglioso vedere questa celebrazione toccandosi i coglioni lo scultore tutto qua perché è uno scultore sepolcrale anche prima mi ha chiamato Sisi dicendo che c'è un sepolcro agli apostoli la chiesa degli apostoli che è tutto sporco nonostante il centenario se lo farò pulire per cui sostanzialmente passa questa immagine dello scultore nato morto però i veriti si incazzano ed escono dalle loro tombe critici che si chiamano uno particolarmente capace è una donna si chiama Elena Bassi la quale si incazza e fa la predica a Longhi poi c'è un altro si chiama Franco Bambieri che io conoscevo bene e anche lui comincio poi c'è Giulio Carlo Argan che aveva qualche motivo di risentimento con Longhi e cominciano a tentare una ripresa di questo corpo morto del povero artista finché nel 72 Yugi Onur critico rigorosamente omosessuale porta l'arte neoclassica italiana che ha al suo centro Canova a Londra e da quel momento comincia la rinascita quindi Canova è diventato un artista del primo piano dalla mostra del 72 da quel momento comincia una ripresa da parte di un critico che si chiama Castelfranco da parte di Argan da parte di Pavanello da parte di un illustre studioso che sta che si chiama Fernando Mazzocca che lavora per il Galeria d'Italia comincia insomma una apoteosi di Canova quindi possiamo dire che l'unico momento in cui le celebrazioni sono nella loro pienezza nella consapevolezza di questo grande artista antico e moderno sono le celebrazioni del 2022 queste quando tutto è chiuso la polemica è finita e lentamente quella ferita di Longhi viene risarcita e si passa dalla celebrazione del secondo centenario della nascita 1957 al secondo centenario della morte 1822 1822 chi lo guarda sono come in questa triste fotografia un po' malinconica un po' così con le piantine con quest'aria povera sono fotografi di una certa capacità di interpretazione fra cui si distingue il fotografo di Michelangelo che è Aurelio Amendola numero 2 il quale fotografa in questo modo rendendo quasi carne il marmo le tre grazie la fotografia diventa più capace della parola e un altro che compete con lui fino a diventare quasi un secondo carola si chiama Mimmo Iodice che nella mostra del 2019 a Palazzo Braschi a Roma fa un intero quartiere di fotografie sue che fanno vedere la potenza fotografica prima ricordavo Newton Mapletor Saudec ma io ho scelto fotografi che non erano in dialogo con Canova ma erano contro Canova o di fronte a Canova o in dialogo con Canova mentre questi si misurano con lui e trasportano del bianco e nero fotografico il bianco e nero del gesso e del marmo quindi Iodice Amendola avete visto Fini nel 57 vediamo quello che ha tentato addirittura un intervento psichedelico cioè di far diventare più attuale più da discoteca e si chiama Marton numero 5 il quale ha dato il colore alle sculture in bianco e nero e lo vedete qua vedete questa scultura che è un gesso non patinato con quei colori che lo rendono come dire più accostante meno distante e invece lo riporta distante l'ultimo fotografo 2016 che si chiama Zonta il quale in ordine alla classicità alla compostezza di Canova sceglie una sola fonte luminosa per tutte le sculture e quindi mette un faro davanti alla scultura e abbiamo un'immagine di perfetta equivalenza con quello che vediamo davanti alle opere dal vivo numero 4 ecco Zonta vedete c'è una fonte frontale e noi vediamo il contorno perfetto di quelle forme quindi la capacità della fotografia di interpretare o rendendolo vivo o rendendolo caldo o rendendolo più freddo o rendendolo oggettivo culmina con la serie che io ho patrocinato come fondazione Canova di Luigi Spina che ha fatto anche importanti fotografie al museo archeologico di Napoli il quale fotografa i gessi cercando l'opposto di quello cui aspira Canova che è l'imperfezione il gesso è come la cellulite è come una superficie guardiamo l'immagine numero 6 questa naia la vedete in cui vediamo questi che sono i punti di piccoli chiodi rapani si chiamano per poter trasportare il gesso in marmo ma vedete che la superficie si mostra con queste pieghe come un po' di cellulite cioè lui va a cercare quello che Canova non voleva esprimere e c'è l'imperfezione del corpo è l'interpretazione ultima è in corso il terzo il quarto volume di questi quattro tempi che per l'editore Five Continents io ho commissionato Luigi Spina quindi possiamo dire che per Canova oltre agli studi oltre alle ricerche oltre a tutto quello che abbiamo di fonti archivio e testimonianze e fratello e opere portate a Possagno nella gipsoteca del museo l'interprete che riesce a alternarsi o a superare la parola del critico la parola dello storico o le parole dei documenti è il fotografo il fotografo si misura alla pari restituendoci il Canova della sua emotività e quindi da qua partiamo ora nel caso di questo piccolo libro che io ho voluto non come presidente di comitato e museo ma per l'avventura che stimola di più un critico d'arte della mia formazione che è la scoperta noi andiamo avanti in un mondo che è pieno di meraviglie dei musei ma ne abbiamo altre tante o molte nei depositi cosa che ha ben detto San Giuliano abbiamo 480.000 opere esposte nei musei e 5 milioni nei depositi è vero che sono 5 milioni magari di frammenti archeologici quindi opere che magari non hanno la forza di essere visti come individui però sono tutto quello che noi abbiamo nel patrimonio dei depositi e quindi in questa dimensione la funzione critica non è fotografare quello che esiste ma aggiungere il passato al futuro cioè trovare nel passato cose che non si conoscevano prima trovare un nuovo Raffaello trovare un nuovo Caravaggio cioè un critico d'arte che non trova un Caravaggio nuovo come ho detto io ne ho trovato mezzo però insomma molti miei ne hanno trovati 5, 6, 7 da quando si è fatta la mostra di Caravaggio nel 1951 a Palazzo Reale con cui questo grande artista nasce prima era completamente dimenticato e sconosciuto quindi 70 anni fa io ho fatto una valutazione in un libro uscito dalla nave di Teseo che sono stati scoperti 16 nuovi Caravaggio 16 che è un numero abbastanza alto nello stesso periodo forse due Raffaello certamente un Leonardo forse non buono quello che ha comprato Bin Salman che è stato fatto comprare essendo lui arabo da quattro ebrei hanno detto sai cosa faccio faccio comprare comunque questa è un'altra storia che diventa il collezionismo e Michelangelo ne sono apparsi due falsi per cui non è facile poi trovi molti artisti diciamo di seconda fascia si possono trovare obiettivamente ma di un autore di cui tutto è stato portato a Possagno dallo studio di Roma dove aveva avuto il suo trionfo la sua vita studio che oggi è occupato dall'artista Luigi Ontani un singolare artista che con il corpo ha rappresentato una bellezza quasi canoviana facendosi fotografare in tutte le pose possibili una forma di body art che è stata sublimata a un'altezza per cui sicuramente l'amico Porro ne conosce l'impresa insomma in quello studio oggi sta Ontani le opere di quello studio sono state portate come il percorso di uno storione a rovescio sono state portate lasciando le uova a Possagno e quindi non è facile trovare un nuovo canova così come è difficile trovare in tutti questi artisti opere nuove però è proprio la sfida del critico il critico esiste per trovare un'opera sconosciuta di un artista importante a me nel 2017 è accaduto a Cremona ero andato per vedere delle opere in una villa alla periferia di Cremona e sono entrato in un ambiente in cui c'era un'opera di Canova sconosciuta questo mi ha motivato a fare il libro di cui stiamo parlando cioè l'idea di poter aggiungere un'opera di Canova a questo corpus così chiuso così tant'è vero che esiste uno studioso l'unico non omosessuale che ha fatto l'ultima monografia per Canova che si chiama Francesco Leone un ragazzo molto intelligente simpatico che lavora anche con me il quale ha fatto un libro bellissimo in cui c'è scritto tutto quello che non c'è nessuna opera nuova sono almeno 70 anni che non appare niente di nuovo di Canova anzi forse da quando è morto non è apparso più niente di Canova se non oggi questa scultura numero 7 la vedete qua è una testa ideale di una erma di una erato una musa che stava in questa collezione come fuori dalla memoria dalla dalle catalogazioni e come ho fatto a riconoscerla ho fatto poca fatica come consigliava Suggiano Briganti prima di fare un'attribuzione guardate se l'opera è firmata così fai poca fatica giriamola infatti numero 8 l'opera è firmata Antonio Canova feci tanno 1811 quindi ho avuto un certo culo perché il culo è fondamentale nella vita quindi io ho trovato l'opera ma lei mi è venuta incontro quindi io sono l'unico che ha scoperto un'opera di Canova essendo anche il più importante storico dell'arte vivente in Italia e forse anche in Europa e anche nel Sud America e anche in Asia senza paura mi è venuta incontro ed eccola qua vediamo l'immagine numero 9 che la fa vedere con questa caratteristica sono le sculture che intorno al 1811 fino alla fine della vita Canova dopo i grandi monumenti fatti per i papi fatti per Napoleone fatti per occasioni ufficiali per le tombe ecco allora lo scultore nato morto e l'indicazione funebre di cui parla Roberto Longhi questo è una serie di busti piccoli di piccolo formato quindi che lui poteva far entrare questo era stato richiesto da un collezionista che si chiama Pezzoli come il pol di Pezzoli che poi dopo cinque anni l'ha venduto a un amico di Cremona quindi dal 1817 l'opera è stata dimenticata è sparita e finita dalla casa di questo collezionista lo trovate nel libro che stiamo illustrando in questo momento però è interessante vedere come lui in questa figura indica qualcosa a mezzastrada fra il mito fra la figura mitologica fra una musa e una figura reale con l'acconciatura come vedete con il nastro che gira intorno ai capelli per fare questo accrocchio di cui vedete qui la meraviglia di grande naturalezza quindi c'è qualcosa di accostante di vivo anche in queste immagini è così statuaria e così solenne e per capire cosa lui aveva in mente è opportuno metterla a confronto con una delle sue opere più note che è la Venere Italica numero 10 che sta a Palazzo Pitti a Firenze vedete lo stesso profilo eccola qua vedete la bocca si è aperta questa è la Venere Italica la Venere Italica è il testo per cui nel tempo che ci resta io vi farò intendere perché Canova è uno scultore così importante non è soltanto un imitatore dell'antico ovvero un artista sepolcrale ovvero un artista che guarda il mondo classico il mondo romano e il mondo greco ma è l'artista che nel momento in cui Napoleone porta a Parigi la Venere Medici numero 24 che è tornata oggi agli Uffizi che è questa la quale è una Venere già umanizzata del primo secolo dopo Cristo in cui si vede questa figura femminile che ha un po' il senso del pudore vedete che con un braccio si copre un seno con la mano si copre il pube ed è come se si facesse vedere nella meraviglia delle sue forme ma anche nell'imbarazzo di essere nuda è chiaro che tu di queste immagini puoi fare una copia se sei Canova la copia diventa così e vedete la differenza Canova inventa l'asciugamano e cioè come in una immagine di vacanze romane di Audrey Hepburn lui intuisce una cosa singolare cioè che questa Venere è una donna sorpresa mentre esce dal bagno quindi arriva Filippo che dice e lei prende l'asciugamano lo porta sul seno di destra e si gira un attimo per sentire sentite quell'istante c'è qualcosa che è un attimo decisivo proprio della fotografia che lui intuisce cioè trasforma queste forme assolute e di pudore tutto giocato sul corpo nell'asciugamano che diventa l'elemento con cui lei si fa vedere e non si fa vedere si mostra e non si mostra e con questa opera sostituisce a Palazzo Pitti l'opera che ha portato via Napoleone cioè non potendo ottenere arriverà più tardi la Venere Medici inventa la Venere Italica che è questa ora capite bene a questo confronto che il suo classicismo è una rigenerazione è la capacità di prendere un'immagine e trasformarla in un'immagine nuova avendo però gli stessi elementi quella asciugamano diventa un elemento di quotidianità lei sta così ed è un po' imbarazzata potrebbe scenderle apparire nuda ma non è soltanto il gesto delle mani e questo che è il modo con cui lui dimostra la sua alternativa al mondo antico da cui pur parte è proprio la dimostrazione che non è uno scultore nato morto ma è uno scultore che si trova vivo che rende vivo ciò che potrebbe essere morto e questo lo fa non solo in questo capolavoro ma nell'opera sua più conosciuta che è quella sulla quale si misura la sua assoluta grandezza che è la sorella di Napoleone Paolina Bonaparte che sposa Camillo Borghese e mentre lo sposa Canova fa un'operazione che tutti avete in mente spero anche di trovarne qui il testo di Camillo che è quello che vedete nel numero 20 vedete? questa è la celebre scultura della Galleria Borghese con la moglie di Camillo Borghese che si fa vedere con assoluta mancanza di pubblicizia su un letto talmente veridico da essere diventato la sedia su cui si è seduto il culo di un turista austriaco che è venuto a Possagno e si è seduto ha rotto le dita della poverina io l'ho preso per il culo fino a perché ha scambiato la scultura per un divanetto ma ha pagato poi solo 2000 euro perché è costato poco il risarcimento ma era divertente far pensare che uno viene in un museo e siccome è un po' affaticato si siede sullo stesso cusino di Paolina Borghese la quale cosa non è stato un danno grave e però cosa vedete qui vedete una trasfigurazione della scusate un attimo se trovo quello che scrive chi è? chi è? Cornuto Camillo Borghese Camillo Borghese Camillo eccolo qua allora Canova vede la sorella di Napoleone e la immagina distesa così come potrebbe essere una venere di Tiziano sopra un lettino con la testa appoggiata alla mano delicatamente due cuscini che si piegano morbidamente lei sta seminuda ma nuda al seno e riproduce il tema della venere classica è Paolina Borghese come venere vincitrice ma sarebbe stato come fare 40 anni fa Gina Lollobrigida cioè era in realtà una figura reale quindi era il modo di proiettare in un tempo senza tempo in un tempo eterno un'immagine contemporanea questa è l'intuizione della Paolina borghese di Canova e quindi la capacità di rendere vivo il marmo e animare l'immagine di una venere che lui in qualche modo prende da Tiziano o prende anche come aveva fatto come pittore lui è stato anche pittore prendendo la venere di Urbino quindi facendo una replica di prima ottocento di una scultura di un dipinto di Tiziano nella scultura lui tiene questa presenza viva questa carnalità questa grazia di questa figura femminile e la trasporta del mito ma è un contemporaneo è la capacità di far diventare eterno ciò che è transitorio questo è Canova che determina anche un effetto imprevisto che quando poi Napoleone cade quindi vai d'esilio la sorella continua a essere la moglie di Camillo Borghese Camillo Borghese però la lascia e lei si rende conto che prima lui poi i servi di Palazzo Borghese fanno entrare le persone per vedere un'immagine quasi pornografica cioè la padrona di casa nuda infatti la padrona di casa però è invecchiata di 15 anni e quindi lei non è più questa e per di più il marito non la ama più le scrive una lettera tenerissima Camillo vorrei pregarvi di farmi un piacere so che talvolta consentite a qualcuno di vedere la mia statua di marmo sarei lieta che questo non accadesse più perché la nudità della scultura sfiora l'indecenza è stata creata per il vostro piacere ora non è più così ed è giusto che rimanga nascosta agli sguardi altrui ora leggerla in questo modo ci dà il senso di come essa sia stata concepita non come un omaggio a una scultura classica ma come una rianimazione e eternizzazione di una figura contemporanea attraverso un modulo che è un modulo classico quindi quando lei si rende conto che il seno comincia a cadere che non è più così giovane che non è più così bella sente di non essere all'altezza del confronto con la scultura e per pulicizia e anche perché il tempo combatte contro di lei chiede al marito di non farla vedere più questo è credo il momento critico più alto per questa scultura cioè di trasportarla dall'attualità all'eternità ma nel momento in cui lei è ancora viva diventa quasi un antagonista diventa una immagine che lotta con la sua immagine reale e qui vediamo anche il procedimento di Canova che è quello per il quale si può giustificare la posizione di Longhi e cioè che queste sculture riproducono dei modelli classici allora se voi andate a vedere come parte una immagine di Canova trovate la terra cotta da cui egli parte speriamo di trovarla qui se esiste numero numero undici vedete Canova parte così è il primo modo con cui dopo la critica di Longhi si cerca di rivalutare Canova è spostarlo dal marmo che è di per sé funerario e dal gesso e portarlo sulla terra cotta dove si sente l'impronta della mano che sta plasmando la forma e quei bozzetti diventano il modo per dire che esistono due Canova un Canova istintivo un Canova immediato di cui vi sono alcune testimonianze proprio a Possagno che fa bozzetti come questi e poi quello che passa al gesso e dal gesso passa al marmo con un procedimento che è questo la sua tecnica era basata sullo studio della statuaria greca partendo da un bozzetto in Creta ne realizzava poi un altro a grandezza naturale da cui faceva un calco in gesso in cui erano inseriti piccoli chiodi repere riportando la posizione dei chiodi sul blocco di marmo attraverso un pantografo faceva a bozzare la statua dei suoi assistenti per riservarsi la finitura con trapano e vari tipi di scalpello trattando il marmo con sabbie abrasive sempre più impalpabili fino a lucidare perfettamente la materia su cui a volte estradeva uno strato di cera leggermente colorata per rendere l'idea dell'incarnato questo è il processo quindi terracotta gesso gesso con i chiodini da lì il marmoraro lo traduceva in marmo facendone un numero di versioni che fino a nove sono ritenute tutte autografe e possiamo vedere allora l'esempio del percorso anche in quello che è il suo capolavoro che è il numero 40 le tre grazie che vedete qui dove i tre corpi nudi hanno però una intimità e una confidenza dell'abbracciarsi che li rende quasi familiari che li rende domestici mettiamo anche il dettaglio dei volti come avete visto prima nella fotografia fatta da amendola andiamo a vedere ecco i dettagli dei volti vedete come si intrecciano si sente quasi il respiro di una sull'altra grazia vediamo il dettaglio della schiena questa è la versione che sta all'immitage numero 42 vedete e poi la coppia per il duca di Bedford che oggi sta al Victoria and Albert il numero 43 la vedete qua ecco in questa immagine si sente come la vicinanza di questi tre corpi nudi crea delle tre grazie che nascono da un'ispirazione analogo a quello del foscolo che nelle sue grazie parla appunto delle grazie di Canova qualcosa che rende vivo e palpitante il marmo e questo è il passaggio di Canova rispetto all'arte antica la capacità di far sentire una vibrazione di vita qualcosa che si vede perfettamente nella Paolina Borghese e in queste tre grazie le quali sono il modo con il quale Canova rende viva la materia del marmo e i fotografi lo inseguono nel tentare di produrre lo stesso effetto andiamo avanti ancora con un altro dei suoi capolavori che è il numero 21 uno dei capolavori di Canova che sta a Parigi di cui abbiamo il gesso a Rossagno che è amore e psiche come voi ricordate da Ovidio il dialogo fra amore e la ninfa che lui fa innamorare è che lei non lo veda mai il loro amore deve essere al buio e il rischio di vederne il volto e lei si incuriosisce per vedere quanto è bello è che lui sparisca e qui avete tutto questo nell'intuizione delle ali loro si avvicinano si avvicinano si avvicinano fino al punto in cui lei è presa dalla curiosità di vedere il volto e improvvisamente quel volto fugge perché le ali portano via amore vediamone i dettagli al numero 22 il momento del bacio eternamente lontano come nella poesia di John Keats o del sudurna greca dove quello che accade sull'urna greca lo vedi fermo per sempre perché non possono più muoversi non possono avere un'evoluzione qui il bacio è eternamente dato ed è eternamente perduto vediamone anche il retro numero 23 vedete come la composizione abbia l'idea di qualcosa che può immediatamente sfuggire che è la capacità di cogliere quell'attimo decisivo che è proprio della fotografia che è proprio di Canova cioè far sentire nel rapporto fra amore e psiche che tutto accade in un istante e tutto in un istante può essere perduto quello che accade può finire in un tempo immediato ancora tra le sculture che possono avere un significato attuale c'è questa singolare opera che è il numero 37 non un capolavoro assoluto ma di cui abbiamo il gesso a postagno che è la pace di Kiev guardatela un po' il numero 37 perché si chiama pace di Kiev perché fu concepita prima che Napoleone tentasse di entrare in Russia senza riuscirci per la committenza di un ammiratore di Napoleone ammiratore di Canova che era un principe russo il quale per San Pietroburgo fa realizzare questa pace a lata la vedete l'opera arriva a San Pietroburgo quando ormai il principe Rumowski è morto però nel 1953 vigente l'Unione Sovietica un presidente di origine ucraina che era Khrushchev fa portare l'opera da San Pietroburgo per cui è stata concepita a Kiev e il concetto di pace stabilisce la contraddizione del nostro tempo cioè che oggi a Kiev riparata durante la guerra come le opere che oggi sono esposte al Quirinale per raccontare l'avventura dei salvataggi fatti al patrimonio artistico italiano l'opera è nascosta e coperta da sacchi per impedire che sia distrutta dal bombardamento io avendole vista la versione preliminare in gesso a Possagno l'ho voluta mandare a Firenze dove a Palazzo Vecchio è stata esposta come simbolo e aspirazione della pace la pace di Kiev con la Russia per cui quest'opera è stata concepita l'opera ha avuto successo e in questo passaggio noi abbiamo voluto celebrare il fatto che Firenze sia gemellata con Kiev quindi nella città di Firenze in qualche modo si celebra una pace attesa che in qualche modo è stata prefigurata nella scultura di Canova di cui il gesso appunto è conservato a Possagno ecco avete visto alcune delle opere di Canova e avete anche come dire verificato come l'opera sua numero otto ritrovata è l'inizio di una ricerca di Canova di uscire dalla scultura monumentale come le Tre Grazie come la Paolina Borghese ed entrare in una dimensione quasi borghese cioè una scultura come questa finisce in una casa e in quella casa muore e rimane nascosta dove lui cerca di portare questa continuità di una tradizione che è la tradizione classica da lui esperita nel luogo naturale per studiare l'antico che è Roma quindi Roma è il luogo dove Canova non poteva non vivere ma il richiamo al mondo e le sue origini il richiamo al Veneto fa poi riportare tutto a Possagno dove potrete darlo a vedere chiudo questo intervento di ordine generale con un riferimento a questa dimensione che possiamo trovare nel busto di Ludovico Cicognara numero 27 perché come voi sapete tutto nasce e tutto finisce a Ferrara la grandezza di Canova è stata sostenuta da un grande studioso di Ferrara che si chiama Luigi Geopoldo Cicognara numero 27 in cui questo è il busto che era conservato alla certosa di Ferrara e ora è al museo di Schifanoia il dialogo con Cicognara ha consentito di elaborare l'estetica del sublime cioè quello che vedete in Canova è l'idea di perfezionare la realtà di renderla più bella del vero mentre Caravaggio produce un'immagine che è uguale al vero Canova cerca di far diventare gli esseri umani come divinità lo fa con Paolina Borghese lo fa con Le Tre Grazie lo fa con Leopoldo Cicognara lo fa con questa meravigliosa danzatrice col dito al mento numero 28 che è il gesso di questa immagine sublime guardate in cui si vede il movimento della danza pur nella staticità dell'immagine lui è stato in questo anche prima di Degas capace di rappresentare la vitalità della danza ecco è uno scultore della vita tutt'altro che uno scultore nato morto ed è uno scultore di cui in questa occasione abbiamo visto un'opera nuova per onorare nel secondo centenario della morte questo grandissimo artista italiano l'ultimo classico e il primo dei moderni va vicino al microfono allora intanto non abbiamo capito niente di quello che hai detto è chiaro questo allora Vittorio è il pezzo più insieme adesso non la togliere a tutti è il pezzo che più mi diverte di questa ripartenza perché riesce a rendere sempre straordinaria la nostra bellezza e la nostra Italia e con un modo e un gerdo a parte tutte queste date che dai che non ce le ricordiamo nessuno una data dietro l'altra però ti voglio fare un'ultima domanda perché rispetto a abbiamo ancora 5 minuti rispetto all'ultima volta adesso c'è un incarico governativo e quindi io sento Sgarbi che parla d'arte come tutti quelli che lo sentono qua e poi sento lo Sgarbi che parla di politica sembrano come la differenza che c'è tra me quando faccio una zuppa di porro e quando faccio quarta repubblica cioè due persone schizofreniche siamo perché quando parli di arte c'è un entusiasmo quando parli di politica sono guardato a vista sei guardato a vista? sì hai guardato a vista? sono guardato a vista e perché sei guardato a vista? perché non si sa quello che posso dire questo è chiaro se non ho un pensiero prevedibile quindi volevo volevo dirvi che non sono mai andato a San Siro a vedere una partita di calcio il mio interesse per il calcio è assolutamente nullo però per lo stadio è elevatissimo primi mesi tu hai di governo sei riuscito a fare qualcosa? sì tanto abbiamo concepito abbiamo fatto la celebrazione della Cavani da Viva però dai che importante il cinema non aveva mai visto il ministero non ho mai entrato sei stato straordinario perché la prima celebrazione da Viva l'hai fatta di una donna straordinaria è bella comunista comunista? sì io non lo sapevo ma non te ne frega niente la grandezza di Vittorio Sgarbi però una cosa te la voglio dire guarda che da stamattina poi oggi pomeriggio poi stasera noi parliamo solo di sovrintendenze eh ah sì un po' diversamente da come ne parli tu eh non fanno fare nulla decidono che non si può fare il tettino là nella periferia di Roma bloccano tutto non è che li amiamo come lei quando tu hai parlato della sovrintendenza durante la guerra da questi eroici sovrintendenti poi si chiamano pure come me quella di Roma no? che prendono e portano le sculture i nostri quadri poi oggi invece noi pensiamo che proteggano eh tutto un po' in maniera burocratica c'è questa tensione un po' quello che mi riguarda non proteggere tutto il paesaggio tutto il paesaggio no il paesaggio è l'obiettivo principale che io invento poi è chiaro che occorre là valutare sto facendo delle riunioni nei prossimi giorni che alcune misure non siano misure così restrittive sul piano di interventi che riguardano la vita quotidiana poi dopo che hai costruito di costruire il questo non siamo aperti no no di 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 quella favela verticale detto bosco verticale ma sei scemo è una favela va bene è stupenda e sta qua ci troviamo ma sei matto no volevo chiedere a me sta si concede fin troppo ma hai visto che bello che è questo quartiere bellissimo tu volevi 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 stecca no vabbè comunque bisogna per virgolare anche te questo va anche bene ma bisogna cambiare bisogna entri qua a piazza gaulenti trovi i palazzi i grattacieli è una modernità è una bellezza molti di noi che l'abbiamo vista da poco trovano qua dicono questa è una città che cresce francamente giusto questa roba qui dove la vedi tu non ti è piaciuto neanche questo no io sono d'accordo grazie dei noi sovrintendenti di lasciare costruire dove non c'è niente quello che vogliono va bene va bene non mi piace abbattere qualcosa è meglio lasciare costruire le periferie delle nostre città migliorare le periferie va bene costruire meglio in periferia cos'è quella foto lì quella foto lì è l'ex stadio Measta di San Siro che fu distrutto qualche fu abbattuto ecco vedi quello era quello di prima loro non lo vedono non lo vedono va bene vabbè Vittorio grazie grazie davvero grazie un altro applauso a Vittorio Sgarbi così iniziamo subito complimenti sempre questa è tua Vittorio questa è tua se mi date una mano e avrei voluto urlare forse è tua oppure il titolo sbagliato per te avrei voluto urlare il titolo se possiamo mettere le sedie mi date una mano grazie e togliamo il leggio iniziamo subito la tavola rotonda delle diciassette e trenta con anticipo sicurezza energetica e ruolo delle reti però come vi ho detto i titoli lasciano il tempo che trovano quello che è importante sono i nostri ospiti che sono autorevoli rappresentanti dell'industria anzi più autorevoli rappresentanti dell'industria che ci siano da questa mattina e ne parliamo Stefano Antonio Donnarumma amministratore delegato e direttore generale di Terna che si è microfonato come sta? benvenuto si segue proprio dove preferisce Davide Tabarelli Davide grazie per essere presidente di Nomisma Energia Davide Stefano Saglia consigliere di Arera se non non l'ho visto dovrebbe esserci poi dopo appena arriva lo sediamo Gianfilippo Mancini l'ho visto l'amministratore delegato di Sorgenia Stefano Rebattoni amministratore delegato di IBM Italia Lucia Leonessi direttore generale Cis Ambiente Confindustria ciao dove mi metto? mettiti qua così magari posso riuscire a trovare una sedia allora quando arriva Saglia lo sediamo vicino all'Anonisi io voglio subito fare una premessa a tutti quanti i nostri relatori poi la sapete dobbiamo parlare molto chiaro perché oltre a noi che siamo qua in questa sala c'è uno streaming di tante persone che ci vedono a cui dobbiamo far capire cose fondamentali nel modo più semplice possibile non è un convegno a porte chiuse non nasce come convegno a porte chiuse quello che a noi ci interessa è capire bene i temi dell'energia lo facciamo in maniera semplice quindi Donnarumma io la prima cosa che le chiedo è di spiegare esattamente la differenza tra i carri cioè quello che fa lei perché non è dato tutti fanno finta che sanno tutto ma non sappiamo niente e quanto in realtà l'ho chiesto oggi a Ferraris per altri versi quanto siamo sicuri quanto questo paese è un paese che perché abbiamo capito che la sicurezza passa anche attraverso le reti di energia a lei la prima risposta poi dopo però continuiamo non mi fermo qui allora intanto buonasera a tutti e grazie per questo invito questo coinvolgimento Stefano Terna è il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale quindi che cosa significa è l'infrastruttura portante dell'energia elettrica nel nostro paese quando si parla evidentemente di energia elettrica in un paese incluso nel contesto europeo in realtà si parla di reti interconnesse quindi sostanzialmente noi siamo per 26 volte connessi con altri paesi che sono intorno a noi che vanno dalla Grecia al Montenegro ad altri collegamenti balcanici all'Austria alla Svizzera alla Francia e la Corsica e questo ci consente di essere parte di un'infrastruttura di rete che deve garantire l'equilibrio della fornitura elettrica in tutti i paesi diciamo interconnessi quando si parla quindi di sicurezza in realtà questo è un argomento che spesso viene trattato con una certa leggerezza o superficialità non si parla di sicurezza elettrica di un paese ma si parla di sicurezza elettrica di un sistema se c'è un problema in Svizzera o nei Balcani o in Francia arriva in Italia? dipende dal problema nel senso che se c'è un problema ad esempio noi siamo collegati con la Francia e storicamente la Francia esporta energia elettrica e noi ne compriamo una parte oggi la Francia è notizia quasi quotidiana sui giornali sui quotidiani la Francia ha delle difficoltà legate alla manutenzione delle centrali nucleari che storicamente hanno prodotto grandi quantità di energia ad un prezzo vantaggioso ecco perché poi hanno esportata oggi ne esportano molta di meno anzi in determinati momenti la importano noi quindi come paese portiamo energia alla Francia piuttosto che riceverla oggi lo facciamo? guardi quasi quotidianamente questo può accadere in questo periodo accade in questo periodo è accaduto storicamente solamente prima di questo momento solamente durante la pandemia per esempio ci fu un momento in cui questo è accaduto setta un'altra cosa poi dopo andremo anche su altre domande ci sono delle frasi fatte tipiche cioè la rete deve essere una smart grid una rete intelligente ma mi scusi producono energia passa nella rete e va a chi gli serve scusi se semplifico molto mi deve spiegare l'intelligenza di una rete io voglio capire come facciamo a rendere intelligente anche un cavo io lo dico seriamente questo ma lo capisco capisco il senso della domanda ma l'argomento rete intelligente viene dal momento in cui si è iniziato a capire prima a ipotizzare poi a capire poi a progettare reti che non sono a un unico senso di trasmissione o di distribuzione diciamo che nel passato l'energia veniva prodotta nella centrale veniva trasportata quando l'energia è iniziata ad essere non più patrimonio solo di una fonte energetica ma è diventata diffusa sul territorio questa fonte pensiamo al fotovoltaico e l'eolico ad esempio è chiaro che questa via di trasmissione e di distribuzione non è più a senso unico questo avviene anche su altri campi di applicazione proprio dell'uso dell'energia elettrica pensi all'utilizzo delle auto elettriche l'utilizzo delle auto elettriche man mano che diventerà più massivo e questo è previsto che accada diventerà anche un tema di scambio allora le faccio una domanda proprio da titolo voglio vedere se lei mi risponde come io non so come possa fare se noi avessimo lo sviluppo di auto elettriche che qualcuno presume che qualcuno invece dubita la rete nostra sarebbe in grado di tenere con la sua intelligenza e con la sua potenza quell'estraordinario sviluppo delle auto elettriche che qualcuno si augura è una domanda molto le rispondo con semplicità perché ho gestito diverse reti di distribuzione in questo paese delle città principali inclusa Milano se dovessimo schioccare le dita e pensare a quei volumi no quindi è qualcosa che si costruisce nel tempo perché la rete deve essere resiliente al punto da reggere questi tipi di carichi ma così le rispondo anche ad un'altra domanda che non mi ha fatto ma che mi avvicino così sento meglio perché qua c'è un eco che non sento sì c'è un eco ad un'altra domanda che non mi ha fatto ma che è legata a questo concetto l'energia rinnovabile in Italia copre circa il 35% del fabbisogno nazionale i programmi di transizione energetica prevedono al 2030 di arrivare a qualcosa che si avvicini più al 65% stavattina abbiamo detto che è una specie di desiderio di dream di film di film bravo stavattina ha saputo su questo però c'ho anche io da dire se poi lei vuole anche con i numeri non possono fare dei numeri concreti ci ho detto supponendo di arrivare a un quantitativo di quel tipo e non è molto importante se questo avvenga il 29 il 31 supponiamo di arrivarci se ci dovessimo arrivare domani mattina ci sarebbe un problema a portare questa energia non saremmo capaci di farlo ecco perché esistono piani nella fattispecie il piano interno è un piano decennale che viene definito sotto l'eggita dell'autorità per l'energia elettrica con il ministero competente il ministero della sicurezza energetica questo piano decennale prevede più di 18 miliardi di investimenti che noi stiamo eseguendo regolarmente e che sono proprio l'abilitazione di questo trasferimento quindi man mano che tu vuoi installare fotovoltaico eolico e fonti di generazione di innovabili devi anche adeguare la rete principalmente quella di trasporto nazionale ma anche le reti di distribuzione Sorgenia salto Tabarelli perché ne ho fatto con lui una conversazione l'altro giorno intanto saluto Stefano Saglia che è salito sul palco allora lei è un'azienda privata che produce energia elettrica corretto e mi sono intrattenuto al telefono con lui l'altro giorno prima di questo incontro gli ho detto ma sta roba del fotovoltaico come riusciamo a farla e lei però qualche numero me l'ha dato qualche strategia me l'ha detta noi siamo privati perché lei ha avuto con me un atteggiamento ottimista nei confronti di questo cioè il lato della medaglia è un po' diverso di questo stamattina su un tema molto interessante cioè anche sui piccoli stamattina abbiamo il primo energivore avevamo Ferraris che ha detto io ho 30 milioni di metri quadri insomma beato lui nel senso che è molto più semplice per lui mi spieghi quello che mi ha detto il telefono se è possibile davanti con la stessa semplicità beh sì il potenziale che abbiamo oggi concretamente da sviluppare sul rotovoltaico è enorme intanto la prima cosa è che per la prima volta nella nostra storia e da ora in avanti per sempre lo sviluppo delle rinnovabili ci aiuta ci aiuta da un punto di vista ambientale ovviamente ci aiuta da un punto di vista di sicurezza nel senso che quanto meno ci rende meno dipendenti dagli approvvigionamenti di gas e dalle difficoltà economiche e strategiche politiche e ci aiuta da un punto di vista economico perché queste tecnologie oggi sono mature da un punto di vista di costo venendo al tema dei cittadini se vogliamo di noi come inquilini anche beh oggi noi viviamo in un paese che ha 11 milioni di edifici dai condomini fino alle villette in campagna che hanno dei tetti il potenziale che c'è anche solo sul residenziale senza considerare poi tutto il segmento industriale che è altrettanto interessante è enorme nel senso che oggi mettere oggi di questi 11 milioni di tetti circa un milione sono già coperti da pannelli poco meno di questo un milione di tetti su 11 milioni sono coperti sì sono parzialmente coperti ovviamente mettere un pannello sul tetto oggi è la migliore delle strategie di risparmio di investimento oltre che di protezione ambientale di sicurezza che un inquilino ma noi siamo cattivi lei mi deve parlare del risparmio io voglio capire io ho il tetto ho la fortuna di comandare su quel tetto che non è automatica perché ovviamente le condomini è un casino ho comando sul mio tetto come convince me chi ha quel tetto ad avere un vantaggio economico scusi se sono brutale però chi ha un tetto oggi ogni 4 metri quadri di tetto si può fare un kilowatt tipicamente una famiglia consuma 2-3 mila kilowattora il che vuol dire che c'è abbondanza di disponibilità sui tetti per rendersi autonomi o in larga parte autonomi dai fabbisogni della rete e c'è anche la possibilità di mettere in rete l'eccesso di produzione che durante il giorno questi pannelli possono avere concretamente questo vuol dire che se si mettono per esempio 6 kilowatt di pannello che vuol dire 18 20 metri quadri di superficie si spendono circa 6 mila euro grazie anche agli ecobonus che 50% risparmiare il 50% e questo ai prezzi che possiamo immaginare da qua per i prossimi anni dell'energia consente di risparmiare più di 20 mila euro una famiglia milanese per esempio quindi una zona anche un tetto con poco sole anche un tetto al nord con poco sole perfino chiaramente quanto più si va in zone assolate quanto più questo vantaggio c'è un tema di rete non rete sua rete diciamo di distribuzione locale ma da questo punto di vista questi interventi rispetto ai grandi impianti per esempio solari o eolici hanno un vantaggio nel senso che scaricano la rete anziché sovraccaricarla la decongestionano è chiaro che questo meccanismo che poi fa sì che ci si autoproduce l'energia l'eccesso di energia viene messa in rete magari viene immagazzinata in qualche batteria poi la cosa si può articolare complicare sempre di più presuppone i dati presuppone un'intelligenza a livello di micro rete che però è un processo assolutamente già avviato lei mi sta dicendo che se io dico ancora una cosa con questo investimento con questi numeri esemplificativi che le facevo una famiglia ha un ritorno di questo investimento di 7 mila euro che fa a Milano che sta tra il 15 e il 20% l'anno è difficile trovare un investimento che remuneri a questo livello ma lei lo dice proprio come mi sono dedicato non qua impazzito alla ripartenza no 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 è così cioè lei mi dice io adesso il nostro amico dell'Eni si secca quello mi fa un bond e mi dà 4,5% lei mi mette io metto 7 mila euro mi dà 15% si ed è un risparmio si scende dall'alto come se fosse una specie di di fulmine ovviamente quando si parla di energia non bisogna mai fare l'errore di pensare di avere un una pallottola d'argento no? cioè una una soluzione per tutto il fotovoltaico è certamente per le famiglie ma anche per i capannoni delle imprese è uno strumento importante per riuscire a ridurre le proprie spese a risparmiare a far bene Donnarumma dice lei è convinto eh Donnarumma lei è proprio sono convinto che sia assolutamente uno degli ingredienti per risolvere il problema uno degli ingredienti e per fortuna che adesso ho Tabarelli che mi spiega intanto una cosa voglio capire Tabarelli se oggi lei può parlare liberamente qua non si faccia non si faccia prendere la Donnarumma mi faccia capire se ehm il uno se i prezzi di energia cioè dobbiamo aspettare come mi dicevano questa mattina a un livello comunque più alto di due anni fa tre anni fa quindi ormai ci dobbiamo abituare a un prezzo di energia più alto secondo se nel mix delle forniture che l'Italia eh avrà e delle produzioni che avrà il fotovoltaico effettivamente impatterà molto di più mettiamo un po' di audio e poi se posso una cassa qua sul sul un po' di ritorno audio qui sul sul palco perché io sto facendo una sforzo amplifon sentire però dobbiamo prendere atto delle difficoltà che è il fotovoltaico cioè le famiglie i tetti così fanno qualcosa ma molto poco e noi siamo al 7-8% della nostra produzione elettrica dopo 40 anni che andiamo 35% o 35% o 7-8 il fotovoltaico 7-8 allora lei mi spiana una strada però lo faccio apposta allora qua a Milano qua è arrivato un giorno alla fine dell'Ottocento che si chiamava Giuseppe Colombo aiuto aiutami tu che hai fatto ingegneria cioè è stato quello che ha portato dalla Edison dagli Stati Uniti l'elettricità ha fatto la prima centrale termoelettrica in centro olio combustibile illuminato per la prima volta la scala questa è la città che ha fatto l'idroelettrico questa è la città di Edison che è stata comprata dai francesi che stanno fallendo perché non c'hanno il nucleare c'era Cuccia che aveva fatto salti mortali per difendere la Edison che sono l'idroelettrico ecco quell'idroelettrico conta per il 20% della nostra produzione elettrica di 280 poi noi a proposito di questo però mi lasci sfogare di fare ancora una nuova noi siamo dipendenti noi importiamo tutti gli anni circa 40 30-40 teravattora cioè 10-15% di energia elettrica delle centrali nucleari francese quando citavo prima mi auguravo ma lui non lo può fare ma lo faccio io noi abbiamo avuto il più grave blackout della storia mondiale nel 2003 il 20 settembre 20 settembre 2003? sì il 20 o il 27 non ricordo bene è stata c'era la notte bianca a Roma per fortuna era un sabato notte e insomma è un sistema elettrico questo debolissimo purtroppo sta andando bene poi vado all'inizio perché c'è caldo poi si è stati anche bravi insomma il nucleare francese stanno ritornando le manutenzioni attenzione perché se hanno ragione i suoi amici ambientalisti qualcosa in Francia i miei sì c'è qualcosa che non va perché qua o che le centrali sono vecchie e insicure perché adesso le stanno facendo andare a manetta e che va bene per l'Europa che questo aiuta al suo amato eolico anche quello di Garbi a produrre più energia in questo momento c'è un'abbondantissima produzione da eolico nel mare del nord fa scendere anche i prezzi però tornando all'inizio della domanda perché il tempo sta correndo i prezzi rimarranno alti guarda io dico una cosa che qua non ci capisce più niente nessuno ma è la normalità nel mercato delle commodity in particolare quelle di energia grande instabilità io ho conosciuto Gianfilippo intorno al 98 il prezzo del petrolio è stata citata in questi giorni nelle lettere all'economist l'ultimo numero se la vado a leggere c'è uno che ricorda prendendo in giro l'economist che scrivevano nel 98 stiamo annegando nel petrolio a 5 dollari poi è salito 140 pochi mesi fa era 120 quando hanno introdotto le accise lo sconto a marzo io facevo previsione non ditelo a nessuno a 150 200 insomma in realtà grande instabilità grande incertezza vero è che l'Europa e l'Italia in particolare pagano l'energia sempre molto molto di più di quello che pagano gli altri questo è un altro elemento su cui c'è poco da scherzare la deindustrializzazione che sono un tema lei caro che questo è quello che stiamo vivendo noi europei questa botta questa crisi che sta un po' rientrando magari i prezzi non saranno come prima noi avevamo il nostro Texas che era la Russia ma questo è sparito in un attimo e gli americani pagano l'elettricità 10 centesimi a kilowattora adesso noi le nostre aziende in questo momento sono 40 50 centesimi questo per non parlare della benzina insomma questa è una debolezza ecco ma l'obiezione che mi fanno i suoi amici ambientalisti quando vengono in trasmissione da me e Tabarelli mi dicono ma smettetela di romperle scatola sto fotovoltaico se quello produce a pochissimo prezzo quella sterilizza sterilizza gli eventuali aumenti se quello è un bond un po' come me l'ha raccontato io so quanto investo so quanta energia più o meno si produce certo con l'intermittenza e quello mi abbassa il prezzo dell'energia certo cosa rispondo io serve tutto ecco a parte che anch'io sono un po' mi sbaglio anch'io ecco sono sorpreso dall'importanza della riduzione dei costi che c'è stato nell'eolico nel mare del nord hanno fatto le ultime aste a 60 euro per megawattora in mare non a terra ciò sono dei prezzi poi dopo io ho sempre detto che non si può mai confrontare un'intermittenza con una base un base load però insomma aiuta tutto in questo momento come dicevo prima stanno crollando il fotovoltaico è utile nelle case ma in questo momento non esiste in questo momento il fotovoltaico un milione di tetti oh un milione di tetti no non esiste perché è buio ah in questo momento ora è zero perciò c'è questa grande piccola banale stupida questione che è l'energia e lo dico per tutti faccio un po' l'accademia facendo finta di essere professore però l'energia va consegnata come qualsiasi bene va consegnata al consumatore quando ne ha bisogno perché sapere che in Africa in questo momento o in Australia c'è ne montare enorme di produzione fotovoltaica non serve a niente come quest'estate in Sicilia ce ne sarà tanto noi serve energia ad alta densità poco volume che ce lo dà il fossile a volte nucleare ma con un sacco di problemi e questo tutto quello che facciamo possiamo fare aiuta a ridurre questa dipendenza anche il fotovoltaico sul tetto della casa quel 15% dipende dai prezzi dell'energia elettrica adesso ovviamente sono alti perciò anche questo il fatto che il prezzo dell'energia elettrica in Europa sia così alto non stimola essere più efficienti ma non a caso l'Italia e il paese fra quelli industrializzati che è la più alta efficienza per unità di PIL o per altri indicatori tanto serve però non bisogna dimenticare che ci servono anche qualcos'altro è molto è molto complicato trasferire l'energia intermittente cioè sostanzialmente quella che non si è bene quando arriva ma io solo una mezz'oretta perché quello che è stato detto è interessante ma non è completo non è completo no quindi il mio parere cerco di sintetizzarlo brevemente come ha detto bene Mancini non esiste cosa è usato la pallottola d'argento per il vampiro non esiste è una composizione che noi dobbiamo creare per creare una sicurezza energetica bisogna pensare alle diverse fonti però anche Trabarelli ha detto se aumenti la produzione da fotovoltaico poi noi non abbiamo citato l'eolico oggi ci sono quasi più richieste per eolico che per fotovolta oggi più richieste per eolico sta cambiando proprio la proporzione rispetto a pochi anni fa una cosa voglio dire un numero quando io prima ho detto 35% del rinnovabile è assolutamente la verità questa mattina è uscito questo numero assolutamente la verità si compone di tutte le forme di rinnovabile tra cui l'idroelettrico che peraltro in questo periodo purtroppo a causa della scarsa piovosità che c'è stata in un anno siccitoso non è stata quanto avremmo sperato quindi è un contributo inferiore rispetto a quello storico il trend della piovosità non fa ben sperare quindi bisogna supportare quello che storicamente è rinnovabile tipico per eccellenza l'energia potenziale trasformata con la cinetica in energia elettrica è il massimo del massimo che si può avere però bisogna che ci sia l'acqua e che si preservi questo bene ciò detto il fotovoltaico e l'eolico saranno quelli che daranno la possibilità di arrivare da questo 35 a quel 60 65 70 che sarà la dimensione non può essere solo quella degli impianti piccoli della signora Maria perché è una componente importante ma non è l'unica ci vogliono impianti anche utility scale quindi impianti di grandezza rilevante che vengono evidentemente collegati anche alla rete di alta tensione direttamente e che necessitano di un sistema anche di accumuli perché altra cosa che è stata detta è che una parte del problema è batterie intende esatto che fluttuano ma costano un lotto di soldi queste batterie dipende dal tipo di sistema che si studia anche questo deve essere equilibrato se si pensa a dei campi di calcio di batterie probabilmente non sarà la soluzione giusta se si pensa a sbottigliare dei nodi di rete è già diverso un numero per arrivare a 65% servono qualcosa come 70 gigawatt rinnovabile 6 Milano diceva Tommaso Ferrario 6 dimensioni geografiche come Milano se parliamo solamente di fotovoltaico se parliamo di olic offshore non serve no 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 e dato che c'è una componente forte che sta crescendo su questo andrà analizzata bene ad oggi sul tavolo di Terna quindi collegamenti potenziali in alta tensione abbiamo richieste di progetti e quindi praticamente richieste di connessioni per un numero che vale circa 300 gigawatt rispetto ai 70 quindi richieste che lei ha di connessione per 300 chiunque progetta un impianto che però poi dopo magari un impianto che poi ha tutto un iter ha una sua mortalità e quant'altro che però deriva da una storia del nostro paese degli ultimi anni e c'ha tante diverse motivazioni che non sono solamente l'ostilità del territorio a farti fare l'impianto ma c'ha tante diverse motivazioni e probabilmente tanti diversi interessi però quello che voglio dire la proposta degli investitori che vogliono investire presentano progetti e ne chiedono l'autorizzazione barra la connessione oggi è più di quattro volte quella necessaria all'obiettivo finale fino a pochi anni fa la mortalità classica di questi impianti era intorno al 75% giusto? se quindi io pensassi alla stessa mortalità del 75% c'ho il numero che mi serve a fare il risultato dei prossimi anni poi dice ma li realizzeremo? questa è un'altra parte dell'argomento vi do solo un numero però che ha anche lui un piccolo significato ultimi dieci anni realizzazione di impianti fotovoltaici è stata nell'intorno di un gigawatt all'anno in Italia questo anno 2022 si è chiuso con più di 3 gigawatt cosa significa? poi lo interpretiamo se volete ne parliamo bene Rebattoni voglio capire come in realtà tutto questo che abbiamo raccontato reti intelligenti tecnologia si sposa con il mondo che vediamo qua con l'intelligenza attivizzare con il vostro business cioè alla fine poi sembra che il mondo sia andato avanti rispetto alle tecnologie e alla digitalizzazione e qui siamo ancora però alla vecchia storia dell'ottocento cioè quella che raccontava Tabarelli cioè che ci serve l'energia per illuminare per funzionare sì in realtà sono due mondi che sono che stanno diventando sempre più interconnessi faccio un passo indietro per provarne a fare due avanti nel dialogo portando un punto di prospettiva che chiaramente è differente da quello di chi mi ha preceduto ma dal mio punto di vista è convergente e funzionale a tutto questo tema importante dell'efficientamento energetico e del miglior utilizzo di quelle che sono le risorse critiche del nostro paese dell'energia in primis per quale motivo perché viviamo in un momento in un momento storico in cui le reti fisiche sempre di più stanno integrandosi con le reti digitali quindi abbiamo sentito parlare prima di dati di smart grid di intelligenza artificiale di internet delle cose perché già oggi all'interno di tutti questi processi critici noi vediamo che queste nuove tecnologie tecnologie di frontiera permettono che cosa maggiore produttività migliore efficienza minori sprechi e quindi chiaramente anche ottimizzazione dei costi che cosa può fare l'intelligenza artificiale in tal senso l'intelligenza artificiale è una tecnologia che ha tre grosse caratteristiche la prima è che riesce a lavorare su grossi volumi di dati con delle logiche di finalità finalità di obiettivo il secondo è che riesce a trovare delle relazioni non ovvie tra dati e il terzo che impara dall'esperienza allora avere la possibilità di avere dell'informatica di campo distribuita è sempre di più abbiamo parlato di quanti chilometri le nostre reti elettriche sono diffuse all'interno del nostro paese sensoristica che possa permettere di ricevere dal campo quei segnali che poi trasmessi a una centrale cognitiva e lo dico in maniera semplice perché a non sono un tecnico e perché questa chiaramente non è l'audience permette di poter avere quell'allineamento tra domande e offerta cito quello che si diceva precedentemente in cui l'energia arriva quando serve ok quindi riuscire a fare in modo di poter prevedere quei consumi energetici e quindi allineare l'erogazione dell'energia a monte secondo quello che poi è la domanda che viene lei dice che Terna potrebbe con un'intelligenza artificiale che magari usano già già avere dei modelli predittivi su dove servirà e quanto servirà e come servirà l'energia allora faccio un esempio e vengo in casa nostra in casa di IBM IBM ha acquisito un po' di anni fa una compagnia che si chiama The Weather Company e uno dice ma per quale motivo l'IBM investe dei soldi nel comprare una società che fa previsioni meteorologiche l'ha comprata perché all'interno di questa società di questa compagnia c'è tutto il tema dei dati legati chiaramente alle previsioni meteorologiche e quindi agli sbalzi di temperatura che si possono avere da qui ai prossimi 7, 10, 14 giorni e quindi dare in pasto all'intelligenza artificiale questo tipo di informazioni può sicuramente permettere di alimentare una migliore erogazione anche di questi servizi pochi dubbi certo Lucia mi ha molto colpito un incontro che abbiamo fatto con lei forse era Ecomondo nella fiera di tutte le cose un anno fa in cui mi raccontava e vorrei che raccontasse a voi forse voi siete più esperti già la conoscete però questa storia dei rifiuti e dell'utilizzo che si può fare di una roba che noi abbiamo e produciamo ogni giorno e che viene considerato un problema per noi ma che è una fonte straordinaria di possibile energia e alcuni passi avanti proprio degli ultimi giorni perché è una cosa che mi affascinò un anno fa ma raccontacela bene anche oggi allora intanto ovviamente siamo figli di un dio minore come fonte di energia no? perché già partiamo male siamo nel sacco della spazzatura per cui insomma diciamo che l'empatia è poca però invece contrariamente a quello che potrebbe sembrare la partenza un po' come cenerentola abbiamo invece una fine molto gloriosa secondo me forse non raggiungerà percentuali altissime abbiamo parlato di ben altre fonti più nobili di energia ma il contributo che possono dare i rifiuti oltre e verrò al DL aiuti quarter che è quello che dicevi il passo successivo no 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 è semplicemente un passaggio importante che noi chiedevamo da tanti anni in realtà il mondo dell'energia che viene dal rifiuto compie un miracolo tre volte perché perché porta energia di primo livello e con questo ultimo decreto anche energia elettrica potrebbe contribuire ad arricchire la possibilità di avere dell'energia nobile in più togliere qualche rischio magari di essere dipendenti da uno stoccaggio e da un mondo del gas naturale che abbiamo visto va in crisi facilmente per un conflitto grave ma comunque un conflitto e non stiamo parlando di una cosa che insomma ci ha mandato in crisi in un modo pesante gravissimo e oltre a questo però fa altri due miracoli rispetto all'ambiente che mi sembrava fosse tra le priorità degli ultimi anni un po' forse in questi ultimi due anni un po' soffocata da alcune emergenze e il terzo miracolo importantissimo non occupa terreno la terra non cresce per cui se io butto il rifiuto in discarica occupo terreno ad esempio non ci coltivo grano e mi riallaccio al conflitto ucraino e dunque la tematica di salvare il rifiuto portarlo a diventare energia toglie possibilità di impattare il terreno rispettare l'ambiente e poi in ultimo hai parlato di un dato economico costare niente al cittadino ma tecnologicamente è una cosa ecologica allora ho detto quello che era in sintesi un po' l'aspetto empatico la realtà è che oggi per esempio con questo decreto di quattro giorni fa tre giorni fa abbiamo la possibilità di utilizzare il CSS che non è una sigla io lo chiamo combustibile super sexy ma ovviamente non è quello il termine esatto è solido secondario e viene dalla frazione secca del rifiuto noi abbiamo due direttirici principali del rifiuto l'umido e il secco per semplificarla l'umido fa biometano e idrogeno che non sono irrilevanti peraltro e nel trasporto pubblico in prossimità potrebbero anche garantire un impatto minore per l'ambiente senza le batterie per esempio dell'auto elettrica che comunque vanno smaltite e che comunque richiedono terre rare mentre l'idrogeno e il biometano l'idrogeno un po' meno stabile sappiamo tutti le difficoltà del vettore però il biometano sicuramente con più facilità sono ovviamente rigenerati continuamente dal rifiuto che permane sempre nelle città il rifiuto umido c'è pensiamo a Roma e Milano quanto ne possono produrre la parte secca la frazione secca del rifiuto spesso viene riutilizzata per ritirare fuori i materiali ma ce n'è una buona parte e finiva in discarica oppure veniva prodotto e mi permetto un secondo di raccontare la trafila era praticamente assurda un prodotto che si chiama CSS appunto imballato certificato sistemato con un costo veniva pagata ad esempio Cipro perché lo prendesse cioè noi poi aggavamo perché lo prendesse lo portasse via dall'Italia e lo usasse nei suoi cementifici nei suoi termovalorizzatori ma non potevamo farlo noi ricompravamo il cemento che costava meno di là ora io diventavo matta quando sono diventata direttore generale ho fondato questo segmento sono diventata matta cercare di dire questa cosa finalmente è stato approvato l'utilizzo no però mi devi spiegare una cosa Lucia scusami non è banale per noi tu mi dici che fino a poco tempo fa noi facevamo questo facciamo anche oggi in realtà ancora facciamo ancora questo CSS lo produciamo questo coriandolo è un coriandolo avete presente i coriandoli è un coriandolo e sto coriandolo anche bellino e che c'è perché sei innamorato il CSS toglievamo sì io mi ero innamorata perché mi sembrava una cosa folle da matti toglievamo il cloro per cui pensate che inquina quattro volte meno tre volte sicuro quattro forse sono ottimista io ma qualcuno dice cinque del carbone dunque noi compriamo il carbone che costa 16-20 volte più del CSS 16-20 volte inquina tre volte più sicuro e noi pagavamo per portarcelo via e compravamo il carbone ma dei drogati sì ma ora ovviamente le quantità di CSS per quanto consumino gli italiani non possono sopperire al fabbisogno nazionale però una percentuale di aiuto la danno e soprattutto non impattano il terreno non paghiamo Cipro dico Cipro ad esempio perché il titolo una destinazione che c'è secondo me oggi abbiamo fatto un grande passo avanti nella storia dell'umanità perlomeno italiana abbiamo capito che c'era qualcosa che era stonato io devo ringraziare anche il precedente ministro e quello attuale perché ovviamente non è mai il prodotto di quello che succede adesso c'è un percorso persino il ministro ancora di due ministri fa perché comunque abbiamo iniziato ma perché è così complicato fare una cosa che secondo me qua non c'è nessuno che può considerare c'è qualcosa che non ci stanno raccontando Mancini di la verità purtroppo è quella che ho sentito la conosco questa realtà non può darvi torno assolutamente così ragazzi non c'è una roba che non so dentro c'è qualche problema nell'utilizzarlo nei cementi fici forse lo mangiavano e faceva male ecco non abbiamo capito che faceva male mangiare non si doveva ecco sì ma ho capito ma tre ministri per fare un decreto per cui è come diciamo proprio come stamattina commessina denaro per 30 anni per capire che sta roba di contrario al terminalizzatore beh ci sono i big i grandi nemici che ovviamente però comunque era osteggiato anche dal cittadino anche semplicemente perché non era capita questa cosa e io dicevo ma com'è possibile che non venga capita una cosa del genere cioè tu hai la possibilità di avere un rinnovabile costante il rifiuto si produce il biometano che non inquina il sistema anaerobico che non puzza parliamoci sto parlando in soldoni la frazione secca la recupero finché posso carta vetro eccetera mi resta una parte ci posso fare lo sappiamo fare non in Italia questo procedimento siamo i leader in realtà e le aziende iscritte a confindustria e ambiente che dirigo sono quelle che lo certificano ci potevo impazzire su questa cosa e dato che sono una persona tignosa come tutte le donne insisto ho perseguitato ministri istituzioni alla fine ma io me lo ricordo con te un anno fa abbiamo fatto Ecomondo con gli amici di Ecom un anno fa questo è un tema in realtà c'è anche il biometano e l'idrogeno che sarebbe da discutere va bene però il decreto ha approvato questo utilizzo senza modifica sostanziale lo so che è un termine tecnico ma vuol dire che un impianto un cementificio più piccolo una struttura che vuole usarlo e può modificare il suo impianto non deve chiedere una modifica sostanziale che in Italia vuol dire 5 anni di paralisi brava grazie Lucia grazie 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 e siccome so quanto avrei rotto le balle siccome sono sicuro di quanto avrei rotto le balle a tutti i ministeri negli ultimi 10 anni devo dire che avrai sicuramente buona parte del merito Stefano non ti distrarre perché adesso ci devi spiegare un po' e questo è un po' un argomento per noi caldo allora mi devi spiegare un po' che cosa sta succedendo sulle tariffe sui prezzi e che cosa succederà perché noi siamo molto bravi a dire qual è il futuro eccetera però poi dopo la bolletta la decidi tu proprio tu personalmente quando esce Saglia parlateci chiedete uno scontro se la metti così non esco più di qua no ho sentito prima una battuta sulle previsioni meteorologiche questo sta diventando la cosa più importante di tutte perché noi tante volte ci lambicchiamo su quello che sono le speculazioni finanziarie di come vanno le borse nel caso dell'energia l'indice TTF della borsa di Amsterdam tutte cose vere noi fino ad oggi abbiamo sempre fatto le previsioni con i cosiddetti forward con le scommesse sui mesi successivi e sugli anni successivi che andavano a darci un'indicazione di prezzo di quale poteva essere la previsione dei prezzi nelle ultime settimane gli ultimi mesi è la colonnina di mercurio cioè la temperatura la temperatura che ha allontanato l'inverno o comunque la rigidità dell'inverno tradizionalmente il nostro momento più duro è sempre stato la fine di gennaio l'inizio di febbraio per la rigidità delle temperature e per il fatto che il nostro sistema prevalentemente dipende ovviamente dal gas quest'anno il caldo ha fatto di più di qualsiasi scelta politica o di qualsiasi scelta aziendale questo però ovviamente non ci deve far dimenticare che le politiche energetiche appunto vengono prese vengono realizzate prevalentemente dalla politica e dalla convenienza economica quello che ci tenevo a dire stasera quando Nicola mi ha invitato era anche quello di non dimenticarci mai cosa è accaduto sopra negli ultimi tempi cioè negli ultimi tempi secondo me sono accadute due cose fondamentali la prima che nonostante tutto quello che è accaduto in questi anni il covid la pandemia la guerra in Ucraina e quant'altro l'Europa non ha cambiato di un centimetro la propria posizione sulle scelte di politica energetica perché tante volte anche nella trasmissione di Nicola vedo tante persone che si azzuffano su questi argomenti ma nel momento in cui l'Europa che non è un'entità astratta ma è fatta da diversi organismi tra i quali anche il Consiglio Europeo dove siedono tutti i capi di governo non ha messo minimamente in discussione la transizione energetica cioè a dire la decarbonizzazione la facciamo comunque qualsiasi cosa accada e nel 2030 dovremo consumare meno gas di quanto ne abbiamo consumato fino ad oggi dovremo azzerare il consumo del carbone dobbiamo guardare con un po' di sospetto il nucleare e quant'altro noi sappiamo quello che accadrà cioè accadrà e sta accadendo che le politiche energetiche non sono più le più convenienti da un punto di vista economico ma sono quelle che ci consegnano un ambiente più pulito e quelle che ci danno una sicurezza degli approvvigionamenti guardi io è difficile è difficile sto cercando di fare la cronaca di quello che sta accadendo perché altrimenti io non sto dicendo quello che io ritengo giusto probabilmente se ad un altro convegno nel quale mi fosse posta la domanda secondo lei è tutto giusto quello che stiamo facendo io risponderei quasi nulla però sto facendo la cronaca di quello che accadrà e che accade e che non cambieremo ma come non cambieremo non lo cambieremo la dinamica delle scelte ambientali ed energetiche dell'Europa a 28 paesi continuerà ad essere questa se noi avessimo scelto la strada più conveniente da un punto di vista economico ci saremmo comportati diversamente perfino nel conflitto russo-ucraino cioè perché importare un metro cubo di gas della Russia costa infinitamente meno che importarlo dagli Stati Uniti via GNL sta facendo una considerazione di fatto lo dico per cosa non sta dando dei genitori di valore ma abbiamo fatto io non lo sto dicendo che è giusto sto facendo il cronista sì sì ma certo noi abbiamo fatto avevamo tre direttrici la sicurezza l'ambiente e l'economicità abbiamo deciso che la terza gamba non ci interessa l'economicità l'economicità abbiamo scelto di continuare a perseguire un ambiente più pulito e una sicurezza del sistema energetico europeo perché l'Europa non produce più idrocarburi noi abbiamo gli unici idrocarburi che abbiamo raddoppiato l'importazione lo facciamo dalla Norvegia in parte dall'Olanda abbiamo il presidente russo Putin ha deciso di tagliare con l'Occidente noi abbiamo controreplicato dicendogli non ci interessa perché tu sei un sanguinario dittatore e questo però non è solo una scelta diplomatico-politica significa anziché rivolgersi a Est per le materie prime significa rivolgersi a Sud tant'è che noi oggi abbiamo dimezzato il fabbisogno di gas dalla Russia incrementando il passo Nord passo Gries Norvegia incrementando Algeria raddoppiando l'importazione di gas dall'Algeria utilizzando al 100% il gas d'otto TAP che ci porta a gas dall'Azerbaijan e poi stiamo infrastrutturando maggiormente con il rigassificatore di Piombino e il rigassificatore di Ravenna la possibilità di importare gas da tutto il mondo via nave questo per arrivare alla risposta alla domanda che mi è stata posta noi avremo un costo energetico più basso allora se voi mi chiedete in questi giorni sì assolutamente sì i prezzi che abbiamo visto in autunno o addirittura i prezzi che abbiamo visto in agosto dove c'è stata questa campagna di riempimento degli stoccaggi che ha fatto alzare i prezzi perché la domanda è stata fortissima ci ha comportato di pagare prezzi molto alti e che oggi grazie anche alle temperature miti si stanno abbassando però siccome le suggestioni della borsa e dei prezzi sono particolari ce lo può insegnare Tabarelli se passiamo tre giorni al freddo vedrete che risaliranno subito quindi il prezzo anche dell'energia elettrica è ancora sensibile al prezzo del gas perché aveva ragione prima quello che diceva Donnarumma sulle fonti rinnovabili anche qui voglio dire io non sono un sostenitore di una tecnologia o dell'altra guardo come autorità di regolazione dobbiamo fare il prezzo e dobbiamo capire è chiaro che se l'assunto che abbiamo fatto prima cioè l'Europa il Consiglio Europeo i capi di Stato i capi di Governo non hanno modificato i loro programmi noi entro il 2030 dobbiamo raddoppiare la quantità di energia elettrica che produciamo da fonti energetiche rinnovabili creando un ambiente più pulito creando un ambiente un continente più sicuro perché ha meno bisogno di gas e di petrolio dagli altri ma creando perché è più costoso perché poi giustamente il cittadino ti dice ma scusa il sole è gratis il vento è gratis perché deve essere più costoso rispetto al petrolio al gas o al carbone perché stiamo rovesciando completamente il paradigma prima producevamo l'energia elettrica da poche centrali grandi adesso la produciamo da milioni ognuno di noi diventa un produttore di energia e per poterla trasportare e distribuire bisogna fare degli investimenti giganteschi il piano di Terna prevede 18 miliardi di investimenti ovviamente l'autorità di regolazione che io rappresento non può dire che sono esattamente quelli che li riconosceremo però indubbiamente c'è da fare delle direttrici un oggetto che magari non è di conoscenza diciamo pubblica o davanti all'opinione pubblica ma il Tirenian Link c'è un cavo sottomarino che unico al mondo andrà a quanto 4.000 metri però non dare più scontato Stefano che è questo Tirenian Link è un collegamento tra la Campania la Sicilia e la Sardegna di circa mille chilometri di distanza che va a 2.000 metri e passa di profondità e che chiude l'anello energetico tra le isole e il continente è un cavo sottomarino che dovete mettere voi sarà la più grande opera sottomarina di tutto il mondo ma lo facciamo per dispacciare meglio proprio le energie pulite quindi per dire bisogna cambiare l'infrastrutturazione del paese per passare da un sistema all'altro quindi io ho fatto il provocatore scelte politiche sono scelte ragionevole di un continente che non ha più risorse e che fa questa cosa qua quello che mi può aiutare ora poi parlate voi che siete più seri ma il più serio che mi può aiutare è Tabarelli su questo no no stavolta siamo freschi eh siamo freschi scherzo dobbiamo un po' muovere le cose poi vieni mi riusciate se lo chiedo a te perché ho visto che c'hai qualcosa da dire anche a te scusami lui ha avuto un atteggiamento onesto che io voglio semplificare ha detto io faccio il regolatore ci hanno detto dall'Europa che dobbiamo pensare all'ambiente perché fra un po' moriremo tutti quanti dobbiamo pensare alla sicurezza perché se no c'è un'altra Russia un'altra Algeria succede un casino se andiamo a dipendere troppo dagli altri semplifico per noi loro parlano meglio e certo se ci costa un po' di più ragazzi i due valori fondamentali sono quegli altri ho stretto bene poi secondo me lui ci avrebbe molto da dire ma fa il regolatore Tabarelli rispondo a quel signore che mi sembrava un po' sensibile all'ambiente noi contiamo per l'8% l'Europa conta per l'8% delle emissioni globali di CO2 però di CO2 quelle che è la nostra dannazione la nostra fine il cambiamento climatico perciò c'è questo grande squilibrio tra quello che noi stiamo facendo e quello che fa il resto del mondo che si evidenzia bene in quei 50 centesimi per kilowattora che pagano le nostre imprese o i 53 delle nostre famiglie io me lo posso permettere per fortuna molta gente pensionata in Italia no e negli Stati Uniti la pagano 12 centesimi e le imprese questo telefono questo computer l'ha fatto in Cina con un prezzo di energia elettrica che attualmente è un quarto ma loro fanno tutto pulito? ma adesso no no non è tutto pulito cioè loro hanno ancora mezzo miliardo di persone che non sa neanche cosa è l'elettricità cioè vive in condizioni cioè c'è tutto il resto del mondo che va da un'altra parte noi europei abbiamo questa tensione emotiva questa grande ambizione culturale abbiamo la leadership mondiale della cultura anche nell'ambiente perciò facciamole queste rivoluzioni abbiamo fatto le rivoluzioni per migliaia di anni e dobbiamo continuare e ci costa qualche cosa come il Tirena League non è una passeggiata saremo i primi nel mondo ma io lasciare la Sardegna solo con le paleoliche ho il terrore invece voglio tanto che continui ad avere del carbone io riaprirei il Sulcis il Sulcis che paghiamo tuttora che è una vecchia miniera cioè non una vecchia era una grande c'è Carbonia l'ha fatto i fascisti uno di Forlè cioè Mussolini ha dato giù ha fatto Carbonia perché lì c'è il nostro carbone che è quello che nel mondo fa il 40% della produzione elettrica se ci sta salvando adesso la crisi è perché la Germania è andata a manetta a carbone ha aumentato anche ha aperto una miniera nuova ma sì a parte insomma e noi anche noi abbiamo cioè quel poco che abbiamo l'abbiamo fatta andare ma ovviamente noi continuiamo con quello che la politica precedente ha indicato che è quello di chiudere le centrali perciò noi stiamo facendo questa è una rivoluzione quello che facciamo però ci deve essere secondo me un discorso di onestà adesso lo dico un po' in maniera semplice un discorso di onestà secondo me agli italiani perché gli si deve dire noi non apriamo il surgis noi investiremo molto nel futuro e per i prossimi anni questa cosa costerà un po' di più o in termini vostri diretti attraverso la fiscalità generale cioè si dovrebbe fare questa donna ruma almeno quest'operazione di verità perché se no sembra facciamola facciamola sono d'accordo cioè quanto avrei avrei questo cavo ne costa così tanto no questo cavo questo impianto costerà 3 miliardi e 700 mila euro 3 miliardi e 700 mila euro questo è il suo costo sono due cavi sto scherzando e sono mille chilometri mi avvicino perché non sei ed è un impianto molto complesso però un pezzo c'è già eh un pezzo c'è già tra la Sardegna e la Latina che va a Latina questo è il vecchio Sacoi e che collega già la Sardegna ovviamente con una capacità ad oggi non sufficiente rispetto a quelle che sono le prospettive no una precisazione sono d'accordo con il dottore che parla di un'Europa che va particolarmente avanti direi che forse c'è sempre andata in generale però che va particolarmente avanti eh gli Stati Uniti hanno stanziato per il proprio Green Deal quindi il proprio progetto Green che si compone sia di conversione a energia rinnovabili sia di infrastrutture di trasporto di distribuzione tutto quanto necessita per fare questo percorso circa quattromila miliardi di dollari quindi non mi pare che non abbiano intenzione di farlo tant'è vero che molte aziende europee si stanno interessando a questo perché vogliono dare un contributo anche di competenza ma il Green Deal vuol dire fotovoltaico negli Stati Uniti eolico sulle due coste offshore collegamenti tra gli Stati loro non sono mai stati realmente interconnessi hanno una rete molto obsoleta e non robusta perché non ne hanno mai avuto bisogno perché hanno prodotto localmente nei diversi Stati e di conseguenza stanno cambiando radicalmente la propria politica energetica quello che va detto l'operazione verità è la seguente non esiste la bacchetta magica il processo di transizione energetica noi parliamo sempre degli obiettivi al 2030 no Stefano in realtà si parla di 2050 gli obiettivi veri lo zero emissioni e 2050 ora io non so se arriveremo mai alla zero emissioni però come al solito come dire zero infortuni nelle industrie italiane ci arrivi a zero infortuni forse no ma se non ci tendi mai li riduci quindi il tema è l'obiettivo strategico è fondamentale salvare il pianeta se in altri stati del pianeta in altri continenti non lo hanno ancora capito lo capiranno perché sarà necessario capirlo se qualcuno parte ma si arriva non siamo soli l'Europa è una grande cosa gli Stati Uniti un'altra grande cosa se dobbiamo essere bravi noi a trasferire agli altri questo obbligo come ci sarebbero molte cose da dire ad esempio rendendosi sempre più autonomi che quello è un tema oggi molto sexy però Stefano certo ma autonomi anche nella catena del valore è chiaro che se noi vogliamo mettere pannelli fotovoltaici li possiamo comprare solo dalla Cina non funziona bene quindi qual è la catena del valore industriale in Europa su questo tema allora la politica oltre che farla finanziaria perché non la facciamo industriale e perché non creiamo la possibilità perché questo significa creare posti di lavoro fare girare un'economia completamente differente secondo lei se noi agissimo in questo modo in maniera compatta come si regolerebbero gli altri e questa è la via quindi partire dalla politica energetica farla diventare una politica industriale sul costo voglio solo dire una cosa ai miei ovviamente diciamo con cittadini e cittadini italiani e utenti italiani per il mestiere che faccio da tanti anni che credo sia importante l'infrastruttura si paga in decenni sì ma nel momento in cui l'infrastruttura è robusta e ti consente di fare quello di cui stiamo parlando dopo quello che non paghi è solo il vento oggi se noi produciamo energia dal solare o dal vento ci costa rispetto al costo dell'energia attuale 4-5 volte di meno il tema è che dobbiamo avere l'infrastruttura nel mentre che la costruiamo abbiamo come quando si fa l'investimento a casa ma a un certo punto tu hai l'ammortamento dell'investimento ma hai tutto il vantaggio del come lo traduco questo quando con i suoi clienti quanti clienti avete mezzo milione di clienti no? mezzo milione di clienti PH residenziali questo ragionamento che fa Donnarumma quello che ha fatto Saglia che poi decide il prezzo lui con la sua commissione come lo traduce lei come produttore cioè considera non ragionevole cioè ha a che fare con questo problema di Saglia con il dilemma di Saglia cioè che l'obiettivo ambientale l'obiettivo della sicurezza è percepito dai suoi clienti sicuramente l'obiettivo del costo è molto percepito da tutti i clienti europei questo certamente c'è una consapevolezza ambientale forte crescente ma inutile negare che il tema del costo dell'energia è la maggiore preoccupazione oggi delle famiglie italiane ed europee io sui discorsi che sono stati fatti ho condivido tante cose dal mio punto di vista direi però che per completare il quadro forse bisogna anche tenere a mente un paio di cose c'è uno non c'è politica energetica che possiamo fare se non a livello europeo per fortuna anzi ci manca l'Europa da questo punto di vista siamo vulnerabili deboli ciascuno ciascun paese individualmente l'abbiamo dimostrato anche nella fatica e nel tempo che abbiamo impiegato a prendere le decisioni e possiamo essere dobbiamo essere con una voce sola a livello europeo nel prendere le decisioni tanto verso gli altri grandi continenti europei mondiali le aree globali quindi la Cina e gli Stati Uniti quanto nel fare politica energetica seconda cosa idrocarburi in Europa ci sono molto in maniera estremamente limitata quindi è un dato di fatto che se andiamo a produrre il gas negli Stati Uniti all'Ariab ci costa tre volte meno di quanto ci può costare importarlo o produrlo in Europa certamente condivido il fatto che dovremmo ragionare quando parliamo di emissioni di CO2 a livello globale noi abbiamo preso questa crociata dei prezzi della CO2 che si scaricano poi sugli italiani sugli europei come dei costi e non si scaricano sui cinesi che producono poi i beni che ci esportano con un alto contenuto di carbonio quindi c'è un grosso tema che si dibatte da troppo tempo che è quello di mettere delle imposizioni cioè di fare in modo che i beni che importiamo dagli Stati Uniti dalla Cina paghino la CO2 come la paghiamo noi per i beni che produciamo e questo fare questo ragionamento spinge nell'introdurre delle filiere europee di produzione di pannelli di batterie di impianti olici eccetera eccetera terzo tema che bisogna avere presente è che dal punto di vista di evoluzione delle tecnologie e dei costi non c'è ombra di dubbio lo diceva Donna Rumma non c'è ombra di dubbio guardando il passato e guardando avanti che le rinnovabili hanno un ruolo crescente da dover sviluppare perché hanno il costo si è ridotto di dieci volte in dieci anni e continuerà a essere così non a questo ritmo ma negli anni futuri e il digitale accompagnerà e faciliterà questa transizione quindi e ancora una volta non c'è una pallottola d'argento esistono però diverse cose che vanno tenute insieme quindi il gas europeo l'infrastruttura di importazione i ricassificatori noi per troppo tempo abbiamo detto facciamo solo rinnovabili e non facciamo ricassificatori poi ci svegliamo una mattina che avessimo dei ricassificatori saremmo più assicuri quindi ridondanza flessibilità velocità politica europea integrate ma tenendo presente che il ruolo che devono avere avranno le rinnovabili sarà crescente perché ci conviene ci conviene dal punto di vista economico prima ancora che da quello ambientale della sicurezza qualche esempio Stefano qualche esempio pratico di come il digitale io voglio capire questa roba qua possa permetterci il risparmio ho capito mi è piaciuto molto l'idea che tu hai investito per esempio che voi avete investito in una società meteorologica perché capisco il concetto l'intelligenza artificiale la vedo pratica ma poi quando si dice che può servire il digitale per risparmio che vuol dire concretamente io so che le data farm consumano un botto so che siete energivori in tanti cose in tanti aspetti che vuol dire risparmiare fammi rispondere così Nicola noi da ormai insomma alcuni anni abbiamo intrapreso una direzione che oggi si sente tanto parlare di metaverso sicuramente andremo anche verso quella direzione quindi di un digitale per il digitale ma noi piace portare avanti un piano d'azione sul mercato che è del digitale per il reale mi spiego meglio il digitale per il reale vuol dire applicare le moderne tecnologie le abbiamo citate prima a supporto di tutti quei sistemi che oggi sono fortemente energivori li classifico in tre grosse categorie le infrastrutture critiche del nostro paese abbiamo citato trasporti stamattina con il dottor ferraris oggi lungamente tutto il tema dell'energia la connettività eccetera eccetera poi c'è una seconda categoria che è quella data dall'IT IT è energivora per definizione i data center sono energivori e poi c'è una terza categoria che è quella delle catene di approvvigionamento delle supply chain allora la rivoluzione l'evoluzione la modernizzazione di ognuna di queste tre categorie fa sì che si riesca lato data center questi sono dati negli ultimi dieci anni il carico internet si è moltiplicato dodici volte rispetto a quello che era dieci anni fa chiaramente portando un carico di operazioni di data center che si è moltiplicato esponenzialmente ecco se noi andiamo a guardare la bolletta elettrica energetica di data center troveremo che le bollette elettriche di data center non sono aumentate per quale motivo consolidamento cloud modernizzazione delle infrastrutture e questo a perpesso cioè col cloud se io c'ero una roba sul cloud e spendo meno energia o con infrastrutture più moderne con un cloud che deve essere ibrido tale per cui ci sono tecnologie moderne infrastrutture presenti nei data center ma anche potenze che sono in cloud soluzioni e services altrettanto su tutti quanti temi delle supply chain supply chain che sono andate fortemente in difficoltà durante la pandemia per le inefficienze di quelle che erano di fatto le catene del valore tradizionali poterle digitalizzare vuol dire riuscire a mettere in connessione in maniera più veloce più rapida più efficienti variatori della catena tutto questo produce e termino risparmio ma rispondo anche all'ospite in sala produce anche sostenibilità perché poi alla fine in ultima istanza quello che si vuol fare oggi sul mercato è fare impresa in maniera sostenibile e quindi il concetto del digi green digitale a supporto del reale sì ma anche di una sostenibilità inclusiva sociale e dell'ambiente perché avevi cosa che mi volevi dire quando si dio saglia non mi attaccare saglia no 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 mi ha sollecitato che mi alza la bolletta no no anche a me regola anche i rifiuti per cui sono attentissima è pericolosissimo il problema è che mi ha sollecitato quando ha parlato di mare e di approvvigionamenti perché ha citato il cavo e ho pensato che il decreto biometano contiene un altro assurdo che mi fa piacere raccontarti è brava perché allora noi possiamo approvvigionare i mezzi via terra secondo il decreto e lacustri o fluviali giustamente l'Italia non ha coste no perché è un paese senza mare è certo ecco non si può approvvigionare dal porto la nave italiano dunque il GNL le navi vanno a Barcellona tornano e l'hanno finito allora aspetta io mi porto dei casi divertenti perché come questa sera allora l'energia è un polo olistico siamo tutti a partecipare a questo polo il rifiuto è piccolino tant'è vero che anche come genere sono l'unica donna questa sera rappresenta il rifiuto che è una piccola anche se è una donna abbondante però sempre una non sono la quota rosa il problema è che questo decreto contiene questo assurdo ma un assurdo vero ma tu immagina che ma è arrivato il pichetto cioè è arrivato il ministro no ma poverino non c'è Danusa su questa cosa e chi l'ha fatta sta roba l'ha fatta Saglia? no no Saglia non c'è da gente qualcuno deve aver fatto ma è giusto tu pensi all'Italia pensi all'acustro fluviale giustamente perché mi sembra abbiamo il Danubio abbiamo tanti fiumi navigabili il Tevere giustamente nemmeno le chiatte possono arrivare a un certo punto poi lo becchiamo picchietto però qualcosa vuol dire che il rifiuto tutti parlano di ambiente abbiamo sentito tutti hanno parlato di ambiente ma il rifiuto mi sembra una cosa più ovvia se parli di ambiente partiamo da lì questo l'hai risolto CSS l'abbiamo risolto ma è uno il rifiuto umido ci sarebbe il biometano ed idrogeno possiamo quel poco di amato stai sentendo io vedo Fabrizio ma sta parlando di idrogeno poi dopo mi devi dire sei pronto sei pronto i nostri industriali io ne ho 1200 hanno dei progetti di cui uno tra l'altro ha raccolto forse solo in campagna in questo momento in Abruzzo per produrre dal reflui delle vacche ad esempio o il rifiuto umido del biometano idrogeno biometanolo che potrebbe essere ancora non sono ne sta partendo uno in Abruzzo ma potrebbero essere impianti diffusi in Italia anche modulari anche piccoli per fare in prossimità del combustibile che nel polo olistico dell'energia aiuta cioè voglio dire mi appello al buon senso anche se una piccola parte che poi non è banco così piccola proviamoci visto che tutti parlano di ambiente e continuiamo a citare solo il termo valorizzatore che è una parte di questo polo olistico dello smaltimento dei rifiuti ma ci sono altri guarda là di Amato guarda là di Amato quanto è contento non mi fa cadere quando scendo no no non penso non penso anche perché rappresenta appunto come quota di genere sono dobbiamo essere gentili in realtà dovete essere gentili ma anche con i rifiuti dovete essere gentili con i rifiuti all'era dovete essere gentili grazie 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 Stefano a te una breve conclusione perché siamo andati in ritardo non essere provocatorio ti prego dacci un'ultima tua conclusione faccio finire l'autorità così siamo tutti più sereni no l'ultima considerazione ovviamente riguarda alla regolazione dei mercati che deve essere sempre più diciamo penetrante rispetto a quello che sono i miglioramenti tecnologici che vengono avanti noi siamo oggi siamo in grado di remunerare sempre di più e sempre meglio gli investimenti nel settore e sappiamo di doverlo fare consapevolmente utilizzando le risorse che raccogliamo con le bollette dei cittadini quindi il fatto che questo ruolo sia sempre un ruolo a fianco del governo penso che sia una cosa utile che possa essere efficiente ed efficace bene grazie vi ringrazio tutti quanti ringrazio Stefano Donnarumma Davide Zabarelli Stefano Saglia che dobbiamo fare la foto ma non facciamo sta foto che ci frega va beh è utile facciamo la foto un secondo che sono tutti pronti siamo due minuti in ritardo forza guarda che quelli su internet ti dico ma queste ancora con le foto va bene dai bene benissimo dai dai facciamo grazie Lucia ci vediamo dopo vorrei chiamare sul palco grazie 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 allora chiamerei sul palco Michele Crisostomo presidente dell'Enel ci siamo vi salutate tra di voi Fabrizio Diamato devi salutare qualcuno vieni vieni Michele ciao come stai Fabrizio ti abbiamo evocato ma mettiti come come vuoi dottor dottor Mazzoncini amministratore delegato di A2A Mauro Micillo responsabile Imi Corporate Investment Banking d'Intesa San Paolo come stai? Katia Tomasetti leader focus team energy and ecological transition che eccola qua come stai? benvenuta grazie ringraziamento particolare a lei che ha fatto una videoconference l'ho obbligata poverina a stare un'ora qua sopra a parlare noi discutevamo però si fa va bene Michele Crisostomo presidente Lene operatore fondamentale non so se hai seguito un pochino i nostri ragionamenti voglio capire che cosa state pensando voi sulla generazione nel prossimo futuro abbiamo 45 minuti abbiamo tutto il tempo per poter parlare con tranquillità però ci sono gli operatori fondamentali anche perché sono tre ore abbiamo fatto un'ora e mezza di sgarbi mitico però abbiamo fatto un'ora e mezza di sgarbi benissimo allora innanzitutto però mi piace dire che cosa stanno pensando gli italiani dell'energia perché c'è un fatto che è relativamente nuovo che riguarda le richieste di allaccio che abbiamo ricevuto poi per la rete su impianti rinnovabili da parte di famiglie e di imprese quindi a prescindere da quello che succede sui grandi impianti il dato che è veramente interessante è il modo in cui esponenzialmente è cresciuto il numero di queste richieste di allaccio cioè tre volte per semestre cosa che ci sta portando anche guardando proprio la capacità installata complessiva ha un dato che è quello per cui i comportamenti stanno cambiando quindi passaggio di fondo qual è? abbiamo avuto una crisi energetica prima c'era il grindile europeo a cui l'Enel peraltro come si sa ha dato un suo contributo sia in chiave strategica che in chiave poi di concreta realizzazione della transizione ma la discontinuità rappresentata dalla crisi energetica ha mostrato l'altro angolo della transizione che è quello della sicurezza energetica sotto questo profilo la spinta la presa di coscienza della volatilità dei prezzi delle materie prime del gas prima di tutto ha fatto in modo che i comportamenti delle persone cominciassero piano piano a modificarsi quindi oggi il problema è gestire milioni di punti di generazione molto capillari e quindi il ragionamento si sposta sul se il sistema è capace di reggere quest'urto che è un urto quindi da qui gli investimenti sulle reti il fatto che nel PNRR pochi giorni fa noi abbiamo avuto la giudicazione di progetti per investimenti di 3 miliardi e mezzo sulle reti per aumentare la cosiddetta host incapacity quindi la capacità della rete di rispondere a questa onda d'urto e quindi la risposta alla tua domanda è in effetti sono gli italiani che stanno cambiando assecondando in chiave sia di stabilità dei prezzi prospettica sia di sicurezza del proprio modello di generazione quello di casa o quello della piccola impresa stanno effettivamente facendo loro la transizione energetica siccome hai citato il PNRR Katia e io devo arrivare subito da te perché era il tema che volevamo affrontare insieme perché è un pubblico io lo ripeto a tutte le tavole rotonde il nostro molto vasto molto diciamo non tecnico non siamo in un convegno di specialisti però noi ogni volta che ascoltiamo PNRR è la soluzione di tutti quanti i problemi ma in questo caso io ho molta fiducia devo dirle la verità Presidente c'era stamattina Ferraris ci sei tu ora c'è persone che hanno aziende che riescono a metterla a terra però veramente questi 220 miliardi sono quelli che svolteranno la vita delle nostre comunità come ci stiamo lavorando quali criticità ci sono ma non soltanto perché mi viene da dire l'Enel è strutturata per farla una cosa di questo tipo hai capito la domanda come è sì il microfono forse lo stacca devo dire che io ho effettivamente facendo infrastrutture come lavoro ho delle perplessità sulla nostra capacità credo che ci siano tre aree che vadano focalizzate uno che può sembrare molto molto alta ma in realtà ha degli effetti pratici ed è la mancanza di una cultura delle infrastrutture cosa vuol dire mancanza della cultura che mentre Enel è perfettamente in grado di gestire un progetto di impiegare nei tempi previsti i soldi diciamo invece ad esempio i comuni che potrebbero sfruttare i soldi del PNRR sulle comunità energetiche non sanno nemmeno da che parte cominciare alcuni di loro hanno nominato il responsabile però sono smarriti si è cercato di fare qualcosa la piattaforma MEPA per esempio si può accedere di consip si possono fare lavori fino a 5 milioni di euro organizzati da qualcuno che queste cose deve fare ma c'è tutta una parte in mezzo dove culturalmente c'è un gap tu mi stai dicendo che le grandi imprese italiane sono in grado come si dice con il brutto gergo a mettere a terra questi investimenti il resto dell'Italia dell'amministrazione ha molte difficoltà soprattutto la pubblica amministrazione paradossalmente le grandi infrastrutture sono più facilmente approcciabili le piccole e medie infrastrutture anche banalmente il lavoro sull'idrico sono tubi da rifare però e ce n'è un gran bisogno e ce n'è un gran bisogno ma hanno una grandissima difficoltà le pubbliche amministrazioni a fare le gare a farle bene a farle in tempo ad affrontare il ricorso che è endemico a qualunque gara di questo il ricorso ti entro buono per dopo perché è un altro grande file perciò se io ti dovesse fare una domanda che un po' di previsione non riusciremo a spendere tutti questi 220 miliardi scusami ma è molto banale se vuoi allora con gli elementi che abbiamo adesso dovrei essere scettica però vedo che stiamo approntando delle contromisure probabilmente riusciremo a colmare quel gap se metteremo delle stazioni appaltanti alternative cioè qualcuno che fa l'appalto diverso rispetto a quello che dovrebbe farlo che è il comune stesso esatto non è in grado perché è l'appalto che non riescono a costruire è un problema legale è proprio un problema di know-how è un problema di non avere le persone che hanno mai saputo gestire delle gare di alto livello in maniera efficace lo dico brutalmente no no ma lo devi dire guarda devi dirlo brutalmente perché adesso voglio andare da Fabrizio Diamato per chiedergli so che tu vorresti parlare di tutte e due le cose perché anche questa ti interessa particolarmente però vorrei andare sulla prima cioè sull'alternativa hai sentito Lucia che diceva ci sono tanti mezzi alternativi non per togliere nulla non è che noi odiamo però c'è un'alternativa importante tecnologica alla produzione di energia siccome tu c'è un'azienda privata l'hai fondata tu l'hai resa quanto quanto è grande adesso diventata l'azienda beh siamo 10.000 persone no ma millo con semplicità volume d'affari siamo circa 3 miliardi e mezzo quest'anno al futuro tecnologia dov'è ma io direi visto che come dici bisogna parlare di qualcosa io parlerò di idrogeno esatto idrogeno noi lo decliniamo in tre perché poi la realtà è che la parola transizione vuol dire che bisogna partire da un posto e arrivare a un altro oggi l'idrogeno noi lo facciamo per grandi consumi industriali da 40 anni però viene prodotto quello che si chiama da stime reforme comunque che è il cosiddetto grigio poi l'idrogeno ha tutta una serie di nomi e oggi quello è pronto è disponibile non c'è un tema tecnologico se noi voressimo muoverci verso quel tipo di idrogeno potremmo fare subito con la cattura della CO2 che oggi ci sono tecnologie anche su questo quindi potremmo già cattura di CO2 vuol dire che non va nell'aria ma riesci la catturo la posso raffreddare la posso portare per esempio l'Eni al largo di Ravenna ha 4 milioni di capacità di stoccaggio di CO2 e oggi ne ha impiegati solo 1.2 quindi immaginate quanto potrebbe essere ma la cosa che dico anch'io è che oggi lo potremmo stroccare l'idrogeno dato che l'idrogeno comunque è una scusate la CO2 è una molecola io la potrei stoccare e poi alla necessità la vado a riprendere quindi oggi i pozzi esausti che stanno nel largo dell'Adriatico questo progetto a cui noi stiamo lavorando per Eni potresti stoccare lì c'è un pozzo dove non c'è più il gas ci metto dentro l'idrogeno ma è una cosa che si può fare assolutamente si sta già facendo cioè i grandi consumi diciamo emettitori per esempio in quella zona lì hanno fatto si sono consorziati e si stanno facendo delle infrastrutture di compressione perché poi bisogna fare un po' di compressione e metterlo dentro poi quello lì lo potreste anche recuperare quindi oggi abbiamo l'idrogeno disponibile subito poi si possono fare noi abbiamo fatto diciamo in Italia tra l'altro abbiamo avuto anche un finanziamento parlavate di finanziamento abbiamo avuto un grant da parte dell'IPCEI della Comunione Europea di circa 200 milioni su 500 erogati all'Italia quindi diciamo anche un riconoscimento dal punto di vista internazionale che la tecnologia evidentemente ha una sua capienza quindi per fare la prima hydrogen valley a Roma con 200 mila tonnellate di rifiuti noi potremmo produrre 20 mila tonnellate di idrogeno oppure potremmo come stiamo immaginando di fare dato che oggi un mercato dell'idrogeno non c'è quindi se non pochi si stanno facendo dei distributori anche noi ne faremo uno con Quaid però diciamo in questo caso utilizziamo questi rifiuti che vengono diciamo trattati senza essere bruciati in una tecnologia diversa possiamo produrre idrogeno o in questo caso etanolo perché viene utilizzato per derivare i carburanti come sappiamo la normativa europea dice che bisogna derivare il 3% e si parla che il 27 diventerà il 10% vuol dire quantità divisi di etanolo che serve per additivare oppure alla fine stiamo lavorando anche nella parte perché ho detto la transizione abbiamo messo a punto un impianto che sarà in commercio dall'anno prossimo il 24 che abbiamo chiamato electric blue quindi facciamo l'idrogeno sempre da gas ma con una riduzione di emissioni del 45% quindi lo facciamo da un forno elettrico anziché fare la stima reformer io non ho capito una cosa questo idrogeno poi dopo come si utilizza oggi in Italia beh intanto allora oggi l'idrogeno viene utilizzato su tutte le raffinerie di tutti i nostri impianti e possono essere diventare bio che se io produco come nel caso per esempio dell'impianto che faremo a Gela con Eni noi produciamo idrogeno da rifiuti è tassonomi compliant perché rientra nella riduzione delle emissioni quindi quell'idrogeno viene utilizzato da raffineria automaticamente quella raffineria può essere diciamo clasterizzata come raffineria bio quindi come dire e poi c'è l'idrogeno verde che è quello fatto evidentemente da energie rinnovabili oggi il tema è dove farlo c'è un tema di costi quindi i primi due che ho detto sono assolutamente in linea con il sostituto del carburante dei fuel normali il terzo è un po' più complicato è vero che A2A farà 6 miliardi di metri cubi di biometano no 6 miliardi di metri cubi di biometano è il potenziale che abbiamo in Italia sì sì assolutamente sì scusi ma è un numero senza senso è enorme beh il volume del rigassificatore di piombino appunto ma sai stavo è che non riusciamo a fare stavo pensando al titolo gas o non gas è il dilemma no ma i titoli adesso i titoli va bene gas o non gas abbiamo fatto il dilemma elettrico sai perché è interessante perché la domanda che mi ponevo è ma quello lì è gas o non gas o metano o non metano perché è completamente diversa la posizione cioè tu immaginati che fino a un po' di tempo fa il problema era crescere a livello planetario e avere l'energia per crescere e quindi abbiamo sviluppato l'energia e l'abbiamo trasportata sotto forma di elettricità e di gas siccome il gas è molto più semplice da applicare e ce n'erà in grande quantità gas metano oggi la parte elettrica fa solo il 20% degli usi finali quindi sull'energia primaria che consumiamo in Italia per dire ma in Europa 20% elettrico il resto è gas e petrolio sì ne abbiamo parlato stamattina adesso il problema è decarbonizzare cioè arrivare al 2050 decarbonizzato quindi per semplicità ti serve un elettrone green e una molecola green perché non riusciamo a elettrificare tutto quindi l'elettrone green è facile il suo nome e cognome è idroelettrico eolico e solare la molecola green evidentemente non può essere petrolio o gas metano e quindi è idrogeno e biometano che sono dei gas quindi in realtà se tu li tieni gas non c'è un dilemma elettrico nel senso che il mondo decarbonizzato avrà un 55-60% di elettrico e il resto sarà di molecola quella molecola sarà un gas però sarà un gas decarbonizzato qual è il problema? che il gas decarbonizzato quindi l'idrogeno di cui parla Fabrizio o il biometano oggi è poco e quindi che cosa facciamo? spingiamo sull'elettrico perché abbiamo poca molecola green quindi ribaltiamo lo scenario e mentre prima era più comodo andare a gas perché ce n'avevamo tanto di più della parte elettrica adesso finché non troviamo e la ricerca nei prossimi anni magari lo troverà una molecola green che ci risolva il problema spingere sull'elettrico cioè frankly speaking sarebbe straordinariamente più comodo aver trovato una molecola green che ci risolve tutti i problemi non dovremmo rifare tutte le centrali termo non dovremmo rifare tutte le pande a gas non dovremmo cioè avremmo risolto il problema ma questo ad oggi la tecnologia ci dice che al mondo decarbonizzato se ci dobbiamo arrivare con una molecola green la quantità sarà poca quindi 6 miliardi sono tanti soprattutto se pensi che escono dalle nostre bucce di banane dagli scarti della zootecnia o dall'agroalimentare cioè è semplicemente decomposizione naturale che se ne va nell'atmosfera quindi però se pensi che in Italia oggi consumiamo 70 miliardi di metri cubi capisci che i 6 sono pochi cosa ne fai dell'idrogeno? una domanda che facevi prima a Fabrizio l'idrogeno lo usi come un qualunque gas cioè lo metti dentro è un gas esattamente come ho capito ma sarà un po' di me fai quello che vuoi ci produci energia elettrica ma lo fai oggi? lo fai oggi già? oggi puoi farlo cioè oggi se tu hai una molecola di gas di idrogeno se è una molecola di biogas o se è una molecola di metano ci fai la stessa cosa cioè lo metti dentro una centrale termoelettrica che produce energia elettrica lo metti dentro un'automobile la fai andare la metti in un'industria e la fai funzionare è un gas normalissimo semplicemente è un gas di carbonio un altro dato proprio per il cerco lo dice lui per esempio quello che viene dai rifiuti oggi noi abbiamo 16 milioni di tonnellate in Italia di rifiuti indifferenziali quelli che non si possono riciclare che vanno a discarica sì quello che dicevamo prima con Lucia quindi oggi oh no io parlo di quelli che non vanno oggi abbiamo fatto i conti esattamente 26 duomi di Milano all'anno 26 duomi di Milano all'anno che vanno in discarica che vanno in discarica di volume abbiamo fatto i calcoli facendo quella hydrogen valley cioè questa conversione che è quello che ha detto lui quindi produce un gas di sintesi sì e poi lo puoi poi ci puoi fare l'idrogen poi fai quello che vuoi noi potremmo produrre 1.6 milioni di tonnellate di idrogeno considera oggi l'Europa ne consuma 8.4 quindi è come dire che il 20% per rispondere a una domanda quindi potremmo del consumo di idrogeno in Europa è prodotto dei nostri rifiuti potrebbe essere potrebbe fare con i nostri rifiuti sì ma la logistica dei rifiuti la tecnologia c'è tutto oggi l'organizzazione oggi quando quelle cose vanno a discarica qualcuno lo ha le ha raccolte certo le ha trattate poi non devo spiegare a lui insomma hanno fatto una serie di cose e poi a un certo punto di queste cose non si sa che farne mettiamo sotto terra e non hanno buttato sotto terra oppure li mandiamo all'estero fatemi parlare dei soldi soldi veri qua c'è l'amicillo perché se no noi siamo bravi Milo è quello che dà i soldi per le infrastrutture banca più importante italiana e soprattutto queste cose che abbiamo raccontato prima c'era Donnarumma il cavo miliardo e set gli investimenti quanto vale l'idrogeno quanto c'è di investimenti 500 milioni un impianto da 200 mila tonnellate noi oggi in Italia ne abbiamo studiati stiamo facendo progettazioni per circa 4 miliardi di investimenti Nicola per arrivare al 2050 dei carbonizzati in Italia servono 2.500 miliardi è chiaro per te così sai un numerino che Mauro va tranquillo tra i lavori prossimi vent'anni questa è roba di investimenti importantissima allora facciamo non chiedete soldi subito in tesa ora no ma il nostro mestiere è quello di darli dopo aver selezionato i progetti che sono compatibili con la nostra cultura insomma quindi allora questa è anche una giornata particolare perché parlare dei temi di sostenibilità in questa giornata per un secondo fammi dire una cosa è una giornata straordinaria perché molti di quelli che ci vedono che ci ascoltano avranno visto avranno letto sui giornali che in tesa San Paolo è stata riconosciuta da Corporate Knights che diciamo oggi è stato pubblicato scusate ieri è stato pubblicato da Davos durante il World Economic Forum come la prima banca europea scusate la seconda banca europea la prima banca europea la seconda banca al mondo ovviamente è l'unica italiana diciamo presente ai vertici degli indici di sostenibilità all'interno del concetto di sostenibilità ovviamente c'è anche il concetto della transizione della transizione energetica quindi nel più ampio concetto quello di cui noi abbiamo cercato di occuparci in questi anni è di dare una concretezza ovviamente a questo concetto e l'abbiamo fatto mettendo capitale al lavoro perché per diciamo per dire in parole semplici e molto comprensibili all'audience il nostro CEO il dottor Messina ha annunciato in occasione dell'ultimo piano industriale a valle del PNRR non c'era ancora Repower EU quindi parlavamo ancora di Next Generation EU quindi il diciamo il grande piano europeo post pandemia ha annunciato un supporto di oltre 400 miliardi on top quanto? oltre 400 miliardi nell'arco di piano on top solo intesa on top a quanto già previsto dai fondi del PNRR quindi cifre importanti che ovviamente sono finalizzate a supportare progetti che abbiano determinate caratteristiche ma questo diciamo l'abbiamo già detto dall'altro lato diciamo di questi 400 e rotti miliardi 76 saranno destinati a diciamo a finanziamenti green quindi al mondo green al mondo della circular economy in particolare perché come molti sapranno è un tema che ci sta molto a cuore chiaramente per fare questo serve una cultura Nicola cioè oggi con qualunque banca tu parli qualunque ha un desk che si occupa di ESG di sostenibilità è in grado di proporre prodotti servizi però di tutte queste banche neanche una è in quel ranking che ho appena citato come mai? perché è una questione di cultura perché viene da lontano la cultura della sostenibilità della transizione è una cosa che diciamo prevede come coltivare la terra hai bisogno prima di ararla poi di concimarla poi di metterci i semi far crescere la cultura all'interno dell'azienda cioè per noi il tema della sostenibilità della transizione è un tema che ormai è parte del nostro processo di valutazione creditizia ma da tempo sì ma questo è il punto che mi interessa però Mauro tu sei un banchiere ovviamente accorto sei una persona importante che dovrà gestire parte di questi miliardi di euro che vanno date alle imprese ma siccome sono imprese importante è intesa San Paolo io faccio solo un banchiere per carità detto questo prestare soldi a nuove tecnologie viene diamato da te che ha una nuova tecnologia vuole fare una cosa che diamato la dà e sono convinto che la farà benissimo però c'è un rischio stai citando un esempio non sapendolo perché sembra che ci siamo messi d'accordo ma vi assicuro che così non è ma è il caso di specie perché venne da me Fabrizio Diamato nel 2017 se ricordo bene quindi antelitteram proponendomi il primo impianto il primo impianto completamente circolare in Italia ok e peraltro io probabilmente il mio accento tradisce sono bresciano peraltro ha anche carpito la mia benevolenza perché diciamo questo impianto doveva sorgere poi in effetti è sorto a pochi chilometri da dove vivo allora adesso a parte gli scherzi ovviamente l'abbiamo valutato con grande attenzione eccetera però diciamo la banca è il sollender in quel caso quindi l'unica banca che si è impegnata nel finanziare quest'opera che adesso è viva operante ma poi se vuoi Fabrizio ti può spiegare esattamente cosa fa era stata intesa San Paolo ma perché perché nel tempo avevamo creato una cultura che era in grado di capire questo è il punto sapete che cos'era se questa cosa poteva funzionare e poi ti aggiungo un pezzo quello che abbiamo capito nel tempo è che le aziende che vanno attraverso un sentiero verso la sostenibilità e soprattutto verso una transizione energetica sostenibile che caratteristiche hanno? hanno caratteristiche di minor rischio noi l'avevamo noi l'avevamo eh sì noi l'avevamo intuito nel 2016 poi abbiamo commissionato un anno e mezzo dopo uno studio alla Bocconi perché volevamo che con terzietà dei ricercatori facessero un'analisi su questo 200 aziende di 14 settori merceologici diversi quotate il risultato è che più diciamo circolari o comunque orientate a processi di transizione da queste aziende minore era la loro probabilità di default cioè il loro costo del credito per capirci così come calcolato da diciamo implicitamente dai loro bond quotati o dai loro CDS e anche il ritorno per gli azionisti e gli stakeholder era il migliore non in termini assoluti ma aggiustato per il rischio che cosa vuol dire? che il mercato cominciava a ragionare sul fatto che dare o non dare soldi ad aziende magari con orizzonti temporali diversificati ad aziende che non erano seriamente impegnate in questo processo di transizione comportava un rischio ed era la prova empirica di quello di un'intuizione di qualche anno prima non so se mi sono spiegato molto bene molto bene ho capito che hai passato i soldi da Diamato quello sto scherzando però è una cosa straordinaria è un punto fondamentale poi Diamato ci dice che cosa ha fatto però con questi dimmelo subito il 2017 intanto io aggiungo una cosa perché loro sono stati i primi a fare un plafon importante che hanno messo a disposizione per impianti green nel primo mi ricordo 5 miliardi 5 miliardi e noi siamo stati il primo progetto il primo progetto ma ti hanno fatto un mazzo così volevano vedere i soldi come entravano come sempre ci deve essere un confronto loro hanno una struttura anche tecnica quello che diceva lui finanziaria anche dal punto di vista proprio tecnico quello che stavamo facendo c'è stato un lavoro come sempre importante e abbiamo realizzato questo impianto a Brescia che ricicla che fa in questo plastiche ricicla tutte tutte le tipologie diverse tipologie di plastiche rispetto a quelli che oggi ci sono che vanno per categorie noi diciamo l'evoluzione la tecnologia è stata quella di prendere tutti i tipi mettere lì il sistema con lettori ottici e pesi specifiche adesso senza entrare in troppi dettagli li risepara e poi fa l'estrusione di nuovo e lo ritorna ad essere un prodotto che va ritorna sul mercato come se fosse un prodotto vergine e questo è l'obiettivo il ministro che è arrivato ministro buonasera noi finiamo la tavola rotonda poi ci sarà la sua intervista lo sapevo che arriviamo un po' prima però Presidente Crisostomo io vorrei ritornare sulla questione PNR se mi permette quanto avete della fetta del PNR 220 miliardi compreso tutto quanto quanto vi riguarderà direttamente ci riguarderà intorno ai 4 miliardi questo è un po' in questo momento nel senso su progetti che sono stati già diciamo scrutiti passati al vaglio anche in chiave proprio di presentazione da parte del governo poi alla Commissione Europea quindi progetti concreti che verranno messi in atto quanto è la parte no prego se vuole finire perché due considerazioni su questo sono progetti che hanno una fortissima valenza strategica perché da un lato c'è quello di cui parlavo prima sull'intervento sulle reti dall'altro c'è un progetto che quantitativamente non è tanto nel contesto del PNR ma che è la gigafactory delle rinnovabili dei pannelli fotovoltaici a Catania che noi ingrandiremo un impianto che abbiamo già in attività a Catania per produrre pannelli fotovoltaici qual è la cosa interessante? Innanzitutto che si tratta dell'impianto più grande d'Europa secondo punto Targato Enel stiamo cercando di farne il punto di riferimento di una filiera interamente europea questo è il fatto nuovo perché questo ha molto a che fare con il problema le faccio una provocazione lei si ricorda che si trova in una terra di zuppa di porro la provocazione è questa benissimo lei fa le batterie lei fa la gigafactory lei ha la filiera europea ma lei sostituisce il Texas cioè il petrolio russo con le terre rare cinese e comunque siamo sempre dipendenti da qualcuno all'estero punto di domanda non è una fermazione come no do anche il dato per tutto quello che riguarda lo sviluppo delle rinnovabili in questo momento il 75% di quello che serve 70-75 sono in uno studio della IEA quindi dell'Istituto dell'Agenzia dell'Energia in realtà viene dalla Cina quindi quello che dici è correttissimo però attenzione il passaggio qui qual è? restiamo fermi e quindi coltiviamo dipendenze sulle fonti fossili che non sono soltanto dipendenze geopolitiche ma sono dipendenze dalla volatilità dei prezzi delle materie prime oppure continuiamo in una transizione che è stata già avviata lo dimostrano i ragionamenti che stiamo facendo adesso quindi in realtà noi stiamo tutti parlando di transizione energetica cercando però di fare un lavoro su due fronti fondamentali il fronte del lavoro nel senso che per soltanto sempre qui per dare un'indicazione per realizzare i progetti da PNRR sulle reti quindi 3 miliardi e mezzo di investimento di cui dicevo prima noi siamo partiti due anni fa con un programma di formazione di 5500 persone perché possano essere assunte dalle nostre imprese di filiera per fare in modo che i cantieri torno al punto che c'è l'avvocato Don Massetti prima concretamente si possano realizzare quindi c'è un impatto in termini di posti di lavoro che è straordinario questo è uno l'altro il problema che giustamente si poneva di da dove viene quello che serve per fare la transizione attraverso le rinnovabili da qui la risposta nostra che è coerente col piano europeo che è quella di dire beh proviamo a impiantare le filiere ultima considerazione che è importante perché è molto di attualità gli Stati Uniti cosa hanno fatto? avrete sentito parlare era molto sui giornali in questi giorni dell'Inflation Reduction Act bene sono 370 miliardi di dollari messi a disposizione della transizione energetica in una prospettiva quasi protezionistica innanzitutto bisogna produrre negli Stati Uniti e bisogna buy American come dicono che significa noi possiamo star fermi ed essere schiacciati da Stati Uniti e da Cina oppure cosa che si sta facendo provare a far da soli posso scusati ti integro solo due cose no è bene mi hai tolto la domanda ma va benissimo esatto così non mi fai neanche la domanda la prima è che capisci se Enel rende 4 miliardi a PNRR e noi ne ha due anni prendiamo mezzo su 16 miliardi di investimento che abbiamo nel piano cioè delle briciole questo ti dà l'idea del fatto che il mondo come dire dell'energia e della distribuzione elettrica ha un suo modello economico di funzionamento che non ha bisogno di quel tipo di risorse questo è molto importante perché quando ti dicevo prima che per arrivare a un 2050 decarbonizzato in Italia c'erano 2500 miliardi e visto che PNRR sono 200 è abbastanza evidente che se non ci fosse un pezzo di mercato che sta funzionando da solo e bene tu non riusciresti a avere il grosso dei finanziamenti che mettono giù aziende come le nostre che fanno la transizione energetica seconda cosa tu hai un'auto elettrica? no ai 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 vabbè loro lo sanno né borsello né auto elettrica sappi che quando comprerai un'auto elettrica tu non starai no no ma è una battuta scusami è una battuta è una battuta con no però sappi che tu non starai comprando un'auto elettrica tu starai importando litio cobalto bravo oppure un'auto a carbone io la definisco oggi no 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 tu starai importando tu fai l'importatore perché quando l'auto elettrica che arriverà con la batteria ovviamente cinese con il cobalto e il nickel che arriverà dal Congo a noi quella batteria gli togliamo il passaporto la teniamo qua la recicliamo oggi la comunità europea dà un target di 95% di reciclo su nickel e cobalto e oltre 80% sul litio che vale un po' meno e si stima che nel 2050 l'80% delle terre rare arriverà dal reciclo ma è tecnicamente fattibile questo già oggi? assolutamente sì io sono fissato su questa cosa riusciamo a recuperarla? noi stiamo già lavorando sulla progettazione della prima fabbrica di riciclo da piazzare esattamente a fianco della prima gigafactory che c'è in Italia perché il ciclo di produzione delle batterie ha uno scarto di produzione sulla black mass che è quella roba schifosa che sta dentro la batteria dove ci sono le terre rare del 7-8% e quindi ti alimenta immediatamente una filiera di reciclo considera che in una situazione di questo genere noi ci siamo già passati siamo un paese straordinario cioè noi siamo il nono produttore al mondo di acciaio con lo 0,04% di risorse ferose cioè niente siamo uno dei principali produttori di carta del pianeta senza avere cellulose di nessun tipo cioè siamo un paese che è diventato circolare perché non aveva materie prime abbiamo una fortuna che abbiamo un pil che è il doppio di quello della Russia siamo dei consumatori compulsivi quindi prenderemo una marea di automobili e di batterie ce le teniamo qua le recicliamo e nel giro di 20 anni abbiamo le miniere di cobalto di nickel esattamente come abbiamo le miniere di ferro esattamente così che si fa allora ci rivediamo però poi è veramente bella questa suggestione però Fabricio sarai un importatore quando compri la prima macchina elettrica sappi perché hai preso l'auto elettrica perché così ho importato e che me lo tengo a casa esatto io volevo aggiungere visto che lui parlava di macchine quindi io sono convintissimo che i motori endotermici non finiranno proprio assolutamente sono proprio straconvinto ma non perché personale perché per il lavoro che faccio e quello che vedo continuamente allora guarda io conosco il numero uno dei shell i più grandi produttori al mondo che hanno via loro dicono che il futuro oggi sicuramente sarà elettrico nel breve ma non vuol dire che l'elettrico deve essere sostituito perché io metto una batteria fuel shell anziché ci metto l'idrogeno con 5 kg di idrogeno ci faccio 500 km e posso fare l'elettrone che serve per mandare il motore elettrico oppure faccio la combustione a idrogeno tutto quello che ho spiegato prima come produrre l'idrogeno e noi oggi lo potremmo produrre non faccia di no con la testa perché non c'è polemica a quest'ora mi piace io ti dico che non è così perché oggi ci sono delle tecnologie sul trasporto che stiamo facendo noi perché il vero problema dell'idrogeno io ve lo dico è una cosa sola perché come produrlo l'abbiamo detto si fa da 40 anni quindi la tecnologia è facile il tema vero è che l'idrogeno stoccarlo così come è cioè puro ha un tema di pressioni di temperature di trasporti complicati ma oggi si stanno facendo e già ci sono se lo dico perché l'abbiamo già validato si può trasformare in un liquido in un liquido esatto come se fosse una cosa che lo puoi trasportare dentro questo telefono qui c'è l'idrogeno qui dentro queste è pericoloso siamo qui ma poi c'è l'idrogeno qui c'è l'idrogeno tutti questi materiali per essere fatti qui dentro c'è l'idrogeno quindi noi stiamo mettendo a punto ancora non siamo pronti ma ne siamo convinti e ci riusciremo trasformiamo l'idrogeno in un liquido che si trasporta facilmente quindi lo puoi trasportare e nel momento in cui l'hai ritrasportata adesso quello che si sta cercando di lavorare è fare in modo che questa ritrasformazione a idrogeno che manda avanti il motore endoelettrico e quindi fa la combustione fa il combustione e esce vapore acqua perché l'idrogeno non emette diciamo però fa la combustione che è quello che serve io dico ma se una volta andavamo con le macchine col bombolone ve lo ricordate a gas e c'era solo girarvi la levetta noi dovremmo arrivare adesso non dico la levetta il bombolone ma più o meno a un qualcosa del genere e guardate che ci sono tecnologie che si possono fare e vede io ne sono convinto ci stiamo lavorando e aggiungo un'ultima cosa che per me è fondamentale io dico che l'Europa a mio avviso bene ha fatto quando ha detto che dobbiamo fissare degli obiettivi questo è il mondo perché così si fa io fisso gli obiettivi ma la tecnologia dobbiamo lasciare libera cioè non mi devi imporre tolgo o non faccio io devo l'industria deve poter lavorare per raggiungere quegli obiettivi ma soci questi sono viziati sentono la zuppa con me io sento di amato però sbagliano dico sbagliamo secondo me Fabrizio guarda che sono sette ore che stanno qua io sconsiglierei il mio amico Mauro siamo brisciani tutti e due sconsiglierei il mio amico Mauro di investire su nuovi motori endotermici ma chi sei matto per una ragione fondamentale che la morte del motore endotermico è esclusivamente legata alla sua inefficienza tutto qua non esiste nessun motore endotermico che riesca a superare il 30% di efficienza quindi tu qualunque cosa li metti dentro il 70% lo butti via quindi l'ultima cosa al mondo da fare è prendere roba oro come il biometano l'idrogeno e quant'altro e metterlo dentro un oggetto che ha il 30% di efficienza questa è l'unica ragione per cui il motore endotermico a cui come ingegnere sono anche affezionato è destinato a morire avremmo un dibattito io ti potrei dimostrare esattamente quando si parla di auto funziona ti potrei dimostrare esattamente secondo me il motore però non voglio non voglio non voglio monopolizziamo monopolizziamo abbiamo parlato di biometano di idrogeno di rinnovabili il passaggio di fondo però è capire in che maniera guarda che servono tutte e tre è certo è che stavo dicendo no no io volevo arrivare nel senso che il punto è capire a che cosa serve ciascuna di queste tecnologie e nei settori poi cominciamo dall'automotive ne possiamo considerare tanti qual è la tecnologia vincente cioè su quale ha senso investire considerando anche torno al punto dell'automotive in che maniera anche proprio le catene di montaggio vengono organizzate cioè ha senso per una casa automobilistica far convivere per 30 anni due catene che sono completamente diverse una peraltro che è molto semplice perché questa è la verità un'altra che resta più complessa ha senso questo perché in realtà da lì bisogna capire cioè quando ragioniamo sulle tecnologie farò una cosa con gli automobilisti su questo farò un bel convegno con le case automobilistiche però posso dire una cosa a differenza della franchezza di voi tre che devo ammettere che il pubblico riconoscerà perché avete visto ci sono punti diversi che sono il fascino secondo me non è un convegno è che le case automobilistiche hanno paura di dire la verità su questo perché io parlo con i CEO delle aziende che mi dicono una cosa sull'elettrico poi parlo in pubblico poi ci parlo dietro e me ne dicono un'altra vi dico la verità non sono così franchi come voi io apprezzo molto Mazzoncini di Amato perché voi dite quello che pensate le case automobilistiche sono un po' qualcuno diceva che la bicicletta quando è arrivata l'automobile sarebbe scomparsa la bicicletta ancora è lì quindi il concetto a Milano funziona meglio della macchina io penso solo una cosa aggiungo a quello che hai detto tu allora sicuramente sono tutte le tecnologie perché anche per fare impianti idroge serve l'elettricità e sempre più l'elettricità con i tempi che ci vorranno sarà verde e meglio e poi ci saranno i problemi diciamo di mantenimento ma insomma lasciamo stare questi tempi però il tema vero è che se tu nel concetto che ho detto prima io tu non devi rifare l'infrastruttura cioè immaginate tutte le infrastrutture quando tu cambi un qualcosa devi completamente rifare quello che ti do io è caricare l'idrogeno liquido tu lo potresti ricaricare con le stazioni di servizio attualmente esistenti che cambi un qualcosa comunque è chiaro il punto ne riparleremo di questo e Katia adesso io vorrei riportare voi stavi a parlare dell'idrogeno del metanolo della cosa eccetera poi dopo la cosa che a me affascina che io faccio il giornalista più o meno e ogni giorno quando loro fanno la fabbrica l'appalto eccetera c'è il ricorso c'è il PNRR che non viene io avrò fatto otto puntate di Quarta Repubblica sull'uccellino che non ti permette di fare la cosa sul ricorso tu che fai l'investimento ma che poi dopo alla fine ti dicono guarda quell'investimento non si può fare cioè siamo in un paese in cui è bello tutto quello che avete detto ma la tua Idrogen Valley a Roma tu sai quanti ricorsi avrai Fabrizio io non so se no non te lo auguro non te lo auguro anzi per niente però il tema poi alla fine non è anche un po' questo cioè nel PNRR quando parliamo di queste robe qui assolutamente sì anche perché se posso essere franca almeno nelle rinnovabili il presidente di Enel ma anche Renato possono confermare esiste molto il fenomeno del cosiddetto blackmail challenge cioè il ricorso ricattatorio a meri scopi economici questo è quello che forse vedete di meno cioè voi vedete più un vino eccetera che ha una base ideologica però se uno ha un campo fotovoltaico autorizzato 100 megawatt 80 megawatt ci vogliono almeno 18 mesi ad autorizzarlo appena l'autorizzazione viene pubblicata si apre un periodo dove le banche non possono finanziare sono 4 mesi di limbo perché non posso finanziare? perché non c'è un perché sono a rischio riscorso c'è il periodo in cui un terzo e voi mi insegnate che ogni vicino di casa ha il figlio il cugino avvocato che gli può fare un ricorso che può impugnare e perché lo fa? perché noi abbiamo ancora il ricorso straordinario al presidente della Repubblica che viene dal tempo da un reggio decreto quindi quando avevamo il re per cui e non è un valio è una sorta di ricorso straordinario ma che automaticamente puoi fare dopo 120 giorni il vicino si può svegliare e dire ma sai che io non lo voglio questo impianto nel momento in cui fa ricorso anche se infondato ci sono due soluzioni per l'azienda o cerca il compromesso spesso pagando perché è ricorso a questa finalità oppure quando è ricorso a una finalità ideologica vera rimane impantanato 2-3 anni in un contenzioso Holt che è il rigassificatore di Livorno è una gasiera una delle più piccole che abbiamo io ci ho lavorato come avvocato è durato 10 anni questo processo perché un gruppo di persone pensavano che fosse una bomba talmente potente da abbattere la torre di Pisa ora è in operatività non ha abbattuto nessuna torre di Pisa peraltro è una tecnologia che anche un ignorante avvocato come me quando ha letto l'epotecnico ha capito che non poteva esplodere però se vedete le polemiche di Piombino adesso sono uguali ci stiamo mettendo una bomba in porto quindi quando dico da un lato cultura miglioriamola questo è lo stato dell'arte dall'altro facciamo una riforma facciamo una riforma ecco io ne approfitto che c'è il ministro qui ma il reggio decreto che prevedeva il ricorso straordinario al presidente della repubblica noi abbiamo ricorso ordinario al TAR 60 giorni io anzi per le rinnovabili lo diminuirei a 30 perché non lo abroghiamo non ce lo impone nessuna legge gli altri stati stranieri non ce l'hanno visto che non possiamo noi abbiamo un principio della costituzione ognuno ha diritto a fare un ricorso e nessuno ne paga il prezzo quando è palesemente infondato ma almeno abroghiamo questo e di nuovo invoco Enel e Renato un campo di 80 megawatt in 4 mesi si realizza e si allaccia quindi vuol dire che quei 4 mesi che le banche stanno ferme non finanziano le aziende non mettono l'equity quell'impianto poteva già essere realizzato e avere e non avere energia Ministro poi mi risponde se lo segni perché io la domanda è già un po' complicata mi sono dimenticato esattamente il numero del reggio decreto quando le dico il reggio decreto lei mi dica cosa risponde accade per favore però ce lo siamo appuntati per dopo tanto lei rimane dopo a sentire Mauro abbi pazienza abbiamo qualche minuto però voglio farti finire adesso una cosa un pochino diversa siamo noi qua adesso abbiamo parlato di energia tutto il giorno però siccome io sono stato a colazione con te due mesi fa e mi dico non fare così tanto il pessimista sull'economia si può dire pubblicamente no? Possiamo fare un ultimo tuo view dell'economia con il tuo ragionamento che mi hai fatto a colazione magari semplice come l'hai fatto con me sul come vedi che stiamo andando è completamente fuori dal tema di oggi però almeno ci aiuti un po' a inquadrare le cose sul volentieri guarda stavamo parlando poco fa dietro le quinte mentre veniva il panel precedente con Fabrizio e con gli altri amici allora io i segnali che vedo sono non sono così non sono così negativi ecco devo dirti la verità parlando con tantissime imprese italiane e non noi abbiamo il 50% dei nostri ricavi come divisione corporate investment banking che provengono da aziende internazionali non italiane peraltro le aziende italiane che seguo io sono quelle con 350 milioni oltre 350 milioni di euro di fatturato hanno tendenzialmente una forte dipendenza dei mercati internazionali per ragioni di esportazioni e mercati di approvvigionamento e quant'altro quindi è una visione abbastanza diciamo abbastanza ampia ora credo francamente che i segnali che vediamo sono mediamente positivi le aziende che mostrano qualche signora difficoltà lo mostravano già prima di questi eventi quindi evidentemente non sono tematiche strettamente legate a quanto sta avvenendo credo che guardando anche i nostri clienti molti di loro abbiano saputo migliorare in maniera forte con grande competenza e grande capacità la loro struttura finanziaria quindi sono stati bravi a coprirsi dai rischi dei rialzi dei tassi dei rischi sui prezzi delle commodity molte ascoltando anche i suggerimenti che noi abbiamo dato loro nell'ultimo anno e mezzo su questo fronte quindi io vedo io non sono così negativo insomma devo dirti la verità ti confermo quello che ti ho detto a colazione qualche settimana fa l'inflazione questo aumento dei prezzi lo vedi in discesa è un momento in cui ci sono dico cose che diciamo non voglio annoiarvi perché l'avete già letta e sentite molte volte la natura dell'inflazione in Europa è molto diversa da quella americana e anche da quella in UK per quanto il mercato UK possa interessare in questa fase però è comunque un mercato importante un conto è l'inflazione guidata dalla domanda che può essere domata e certamente verrà domata con lo strumento del rialzo dei tassi da manuale diciamo da libro di testo l'inflazione invece guidata da uno shock dal lato dell'offerta deve essere domata con più acume con più equilibrio quindi da questo punto di vista una normalizzazione dei livelli di tassi di interesse è certamente auspicabile dall'altro come dire la parte guardare attentamente a ciò che avviene sul mondo dell'offerta va fatto con attenzione quindi l'Europa ha qualche sfida in più da questo punto di vista possiamo dire che non ti augureresti un aumento dei tassi molto forte nei prossimi augurare non prevedere guarda ovviamente come chiunque lavori anche perché io sono un ottimista per natura perché se non lo fossi dico sempre non presterei un euro a nessuno quindi per definizione devo essere devo avere sempre una visione una visione cautamente ottimista però devo anche dirti la cosa che mi auguro davvero è che non ci sia una combinazione parlo dell'Europa più che il livello dei tassi in sé perché 25 mesi spontaneamente dietro non spostano secondo me le previsioni è la combinazione di politiche monetarie restrittive quindi rialzo dei tassi da un lato e anche una politica creditizia cioè restrizioni quindi richieste di maggior capitale da parte dei regolatori che combinate assieme sono ben coordinate possono ultima domanda pratica che riguarda possono creare un tema stai prestando ancora soldi come negli anni scorsi avete diminuito il tasso no lo stiamo continuando a fare continuiamo a supportare il paese e anche tutti i nostri clienti fuori da questo paese senza diciamo senza soluzioni ancora non c'è un credit crunch quindi no non ho detto che c'è credit crunch dico solo che alzare i tassi e contemporaneamente come dire agire sui requisiti di capitale no degli intermediari creditizi è una cosa delicata che quindi va attentamente dosata è un dibattito aperto tra gli intermediari e i regolatori e tutti i giorni su questo discutiamo però anche su questo sono moderatamente ottimista bene vi ringrazio per essere stati ai miei tempi televisivi che sono qualche volta nervosenti Katia Mauro tutti quanti grazie dottor Mazzoncini Fabrizio grazie presidente Crisostomo facciamo ancora la foto va bene eccoci dai lei è microfonato ministro? non le hanno dato il microfono? mettiamo un microfono ministro gli diamo il gelato che facciamo? facciamo grazie grazie devi scappare a cena ma ciao grandissimo Fabrizio rimani a cena grazie che faccio? salgo? si rimani fa una mezz'ora adesso c'è un summit a seguito del vostro summit posso salire grazie ministro eccolo qua dove preferisce? dove vuoi? guarda arriva eccolo qua eccoci qua senta contento che fa ministro di ambiente? contento mi so bene è una bella sfida abbastanza una sfida in un momento particolare è un po' come essere in mezzo all'incrocio il vigile urbano in mezzo all'incrocio forse perché da tutte le parti arriva qualcosa senta la domanda più banale che previsioni fate al ministero sul prezzo del gas le riduzioni gli aumenti si è stabilizzato c'è una visibilità diversa rispetto a quella di cui abbiamo parlato noi questa mattina e oggi allora innanzitutto diciamo che mi rivendico una vittoria dell'Italia rispetto al al cosiddetto price cap che è stato che è il bazooka che non è la fissatura del prezzo io non sento niente purtroppo qua va bene comunque mi metto un po' più vicino l'eco è tremenda lei mi sente? io sì so sordo io lo tengo un po' più esatto un po' più lontano grazie perfetto grazie io devo dire che rivendico a livello di Italia perché poi noi tendiamo sempre a esaltare quelli del bicchiere mezzo vuoto la vittoria dell'Italia nel fissare il price cap a livello europeo che è stata una vittoria dell'Italia una battaglia anche durissima peraltro cominciata con il governo precedente e concluso con questo governo che non è la fissazione del prezzo ma è stata l'azione che è antispeculativa è un po' come sospendere il titolo in borsa ecco la sostanza è questa raggiunto quel 180 il titolo verrebbe sospeso e questo ha avuto un effetto immediato perché io che l'ho vissuto in prima persona mi sono trovato nel giro di un quarto d'ora vedere che quel giorno i prezzi viaggiavano sul 140 euro al megawattora di colpo nel giorno in cui l'avete deciso 19 dicembre quindi esattamente un mese oggi e l'effetto automaticamente è stato quello di frenare tutto questo gioco speculativo l'ho scoperto perché poi l'analisi diceva che il gas a livello mondiale c'è e quindi non si capiva tutto quello a stamattina il prezzo era sui 64 euro ma perché fa caldo a meno a meno della metà perché probabilmente fa caldo anche certamente un aiuto viene anche in questo caso dal cielo sicuramente però siamo a meno della metà di cos'era al 19 dicembre tralasciamo i 350 euro al megawattora del mese di agosto del 2022 poi qui naturalmente si accettano le scomesse gli analisti dicono tendenzialmente dovrebbe rimanere su questi valori io dico che su questi valori possiamo anche dobbiamo alle famiglie alle imprese diciamo calerà la bolletta del gas e che è quello che poi alla fine del percorso è il grande interesse quindi già a partire dalla prossima definizione dei prezzi da parte di Arera che ha questo meccanismo mensile adesso credo che ci sarà una buona diminuzione va bene sul gas sul tetto del gas non le racconto quello che penso perché è influente quindi abbiamo il bazooka sul gas lei dice che c'è bazooka e ai tedeschi questo bazooka non gli piaceva? allora i tedeschi ma lei c'è stato no? in quella commissione quel giorno l'ha sì allora la questione i tedeschi la Germania era preoccupatissima della questione ed era preoccupatissima del quantitativo del gas mentre la preoccupazione italiana era la preoccupazione del prezzo perché fortunatamente noi abbiamo tutta una serie di abbiamo i tubi stiamo partendo per i gasificatori il TAP fortunatamente cioè vorrei dire che il TAP significa un'ora al giorno di luce se noi se avessero vinto quelli che non volevano il TAP che negli ultimi giorni ci manda circa 38 milioni di metri cubi al giorno diciamo riaggiorniamo su circa 10 miliardi di metri cubi all'anno non avessimo il TAP dovremmo avere un'ora in meno di energia per l'Italia fermarci un'ora al giorno per caso l'ora giusta è questa quindi avremmo spento tutte le cose abbiamo speso un sacco di soldi ne abbiamo parlato questa mattina lei la pure confermatora di 345 è arrivato dal gas perché abbiamo riempito tutti quanti i nostri depositi e abbiamo volevo capire se sono ancora così pieni e se poi tutto sommato tutta l'Europa scordinata non c'era lei ministro ma tutta l'Europa scordinata che compra a qualsiasi prezzo non crea un casino pazzesco sui prezzi cioè non abbiamo fatto noi un po' di speculazione in quel periodo di fatto non abbiamo indotto l'aumento dei prezzi perché tutti insieme abbiamo comprato non è questo governo che lo fece può anche darsi ci sia stato quello poi è difficile o meglio è facile farla dopo a risultato ottenuto perché quando trattavamo il price cap io stesso non pensavo di raggiungere di colpo un mese dopo di trovarmi a 60 euro o addirittura arrivato a 50 euro qualche giorno fa ci ha dato ragione sulla parte speculativa e nel dire che era gran parte speculazione quindi la risposta è certamente tutta questa corsa immediata questo timore vorrei ricordare che l'Europa dipendeva tanto da un unico fornitore quindi c'è stata la grande corsa a cercare le soluzioni alternative e man mano si sono trovate e naturalmente ad ogni soluzione alternativa ad ogni nuovo percorso naturalmente ci si è rassicurato un po' di più noi siamo per questo inverno direi abbastanza a posto poi speriamo che di colpo domani non vada a meno 20 gradi in tutta Italia e quindi con un tiraggio per una ragione quindi di di fiammata giornaliera la difficoltà l'abbiamo avuto durante l'estate il 28 di luglio c'è stato un blackout elettrico dovuto in questo caso a un tiraggio eccessivo in quel giorno pertanto però questo inverno a posto la valutazione di avere degli stoccaggi alti ad oggi significa essere un po' più tranquilli di riuscire a ricostituirli completamente gli stoccaggi esatto per l'autunno 2023 2024 a prezzi a prezzi molto più moderati rispetto a quello che avevamo cioè questi serbatoi enormi che abbiamo riempito tutto di fretta d'agosto ai prezzi massimi lei dice continuiamo a riempirli a prezzi meno esatto quindi ora state ristoccando? in questo momento più che ristoccando si sta tentando di consumare il meno possibile però c'è anche un meccanismo per dire man mano se riesco ad avanzare lo avanzo come la mettiamo con questo fatto che il rigassificatore che è una delle fonti alternative che noi dovremmo fare ancora stiamo discutendo parlavamo di ricorsi prima non si fa un rigassificatore per obiezioni diciamo come diceva Katia non di blackmail in questo caso ma politiche più ideologiche direi che io ho condiviso su quelle che sono le opposizioni ideologiche perché qui ad ogni iniziativa nasce un comitare di sinistra pertanto ma iniziativa la partenza è il comitare di sinistra con una procedura tante volte molto complessa siamo un paese complesso abbiamo delle procedure lunghissime una delle la sfida forse principale che ha questo governo che ha che ha il sottoscritto come gestore protempore del ministero è quella anche proprio di dare delle regole che diano un po' più di chiarezza e di celerità mi permetto di dire forse vale più ancora dei soldi perché se creo le condizioni io sono convinto che questo paese lo sviluppo della tecnologia quindi e c'è lo sviluppo della tecnologia l'investimento privato non lo fa non lo farà il governo lo sviluppo non lo fa il governo non lo fa lo Stato bisogna creare le condizioni perché convenga di investire prima parlavate di idrogeno certo oggi l'idrogeno mi pare 14 euro al chilo lo vendono a chili e probabilmente le auto potrebbero costare ancora un prezzo esagerato peraltro non c'è ancora il motore col passaggio diretto dell'idrogeno al motore dove nasceranno i motori endotermici che vanno idrogeno e cose del genere è chiaro che dovrà esserci un momento dove la tecnologia un sistema di produzione chiamiamolo di serie per renderlo pratico standardizzato potrà rendere o renderà compatibile il prezzo del veicolo e il prezzo del carburante però se lei mi parla di auto io le devo chiedere se lei è convinto che questa mancanza di neutralità tecnologica cioè dovremmo arrivare a emissioni l'obiettivo zero o quasi zero e la richiesta europea di Timerman quello là con la barba lei lo vede spesso Timerman? sì come lo trova? beh è uno molto convinto di provvedere che non sempre condivido è il massimo che possiamo aspettare da un esponente politico è quello che dico io nella nostra zuppa detto da lui ma questo mi sto parlando con i nostri ma secondo lei ormai è fatta o lì ci sono elementi per ridiscutere non l'obiettivo non l'obiettivo ma i modi per cui arrivare agli obiettivi sui motori endotermici sulle auto ma allora io considero molto ideologica la fissazione dura del 2035 del Fit4Fit V5 questo dà uno stimolo peraltro dico anche se questa data è stata messa dal potere politico dall'Unione Europea è perché comunque le case automobilistiche erano d'accordo su questa importazione ah lei dice perché mi considero ancora abbastanza impossibile che l'Unione Europea decide scavalchi tutto il sistema della produzione automobilistica questo è interessante che in Europa ha due o tre grandi player come stati la Germania l'Italia che è il produttore della Germania poi ricordiamoci pure questo l'automotive nel nostro paese rappresenta diretti 270.000 occupati diretti ma un milione e duecentomila del sistema automotive perché abbiamo duecentocinquantamila artigiani nel settore dell'automotive poi gli elettrauto saranno quelli che cresceranno perché sarà più elettrico ma certamente un effetto è un il vero sistema il principale settore manifatturiero del nostro paese quindi tutto questo che sia nato non solamente dalla fervida mente di Timerman mi sembra un po' foro è un discorso che ha tanti padri poi il peso dei vari padri ognuno lo può definire che dà un obiettivo che io credo sono uno di quelli che ho vinto che al 2035 saranno anche dei motori endotermici con carburanti sintetici diversi che la parte dell'idrogeno che si sviluppa nell'immediato sui grandi su quelli su coloro che non possono andare ad elettrico quindi i grandi mezzi potrà avere anche uno sviluppo su tutta una serie di altri veicoli è difficile la stima di cosa riuscirà a darci la tecnologia fra dieci anni o dodici Seta lei non penserà che io abbia un pregiudizio nei confronti di questo governo diciamo proprio nato anzi però quando ho visto questa cosa sul benzinaio ho detto ma perché non avete fatto un'operazione di verità avete detto di non spendere un miliardo di riduzioni fiscali per le accise ditelo chiaramente affrontate il problema e non lanciate la sfida ai benzinai perché mi guarda il tema ha capito che le volevo decidete non vogliamo fare più lo sconto che non ce lo possiamo permettere perché vogliamo fare altre cose e chiediamola là poi dopo popolare o non popolare è una scelta politica legittima perché parlare di speculazione di benzinai non è stato un po' no diciamo questo diciamo chiaramente peraltro io ero vice ministro al MIS nel momento in cui abbiamo tolto ah già perché prima esatto quindi ero dall'altra parte ero quello quanto costa questa roba quanto costava e costava un miliardo al MIS una dozzina di miliardi e in quel momento il prezzo di benzina e gasolio era oltre i due euro stava andando oltre i due euro in modo forte in quel caso si è fatta una scelta di ordine chiamiamolo politico sociale al mese di novembre metà delle accise sono già state reintrodotte il primo dicembre c'era e non è successo niente la valutazione che è stata fatta per l'altra metà è stata una valutazione in manovre di bilancio dove per mettere 21 miliardi di interventi sulle bollette ma sulle bollette sull'assegno unico su tutto sulle pensioni minime su tutta una serie di azioni politiche si è fatta votazione che non ci sarebbe stata l'esplosione dei prezzi e ad oggi non c'è l'esplosione dei prezzi l'ultima rilevazione pubblicata ieri dal mio ministero da me è quella che la benzina era 1,813 esattamente solo la differenza quindi non c'è stata speculazione non c'è stata poi io sono prima per te sono stato anche il primo a dire alla domanda ma c'è speculazione se superiamo i 2 euro probabilmente è speculazione ma i 2 euro non li ha superati anzi siamo ben di sotto i 2 euro questa è la realtà non tutti lei comunica diversamente da altri forse su questo mettiamola così poi ma no allora potrei ribaldare la colpa sui pubblicatori no assolutamente non dirvi senta e riguardo al fatto che è un'altra cosa che mi incuriosisce abbiamo parlato tutt'oggi della riduzione del prezzo del gas riduzione per motivi più diversi ognuno la pensa come gli pare però è un fatto voi avete postato 21 miliardi di 30 di manovra finanziaria su varie forme di riduzione degli oneri per l'aumento delle bollette ma lì c'è un tesoretto visto che sta diminuendo il prezzo del gas e quindi ci sarà un meno un minor tiraggio immagino da parte delle famiglie dei crediti imposte delle imprese su questo cioè questo esiste un tesoretto potenziale visto che oggi il gas costa meno di quanto si prevedesse qualche mese fa allora io più che di tesoretto potenziale direi che c'è il rischio di avere il danno potenziale se la mettiamo a livello puramente finanziario perché chi ha comprato a 200 euro al megawatt ora si trova a dover rivendere oggi a meno quindi ecco dobbiamo ribaltare se va il discorso però sono convinto che i soggetti le varie aziende imprese che hanno acquistato si siano anche tutelate con operazioni a termine che in qualche modo le salvaguardino certamente qualche differenza per lo Stato c'è io lo dico francamente noi abbiamo acquistato gas durante il mese di agosto settembre dove c'era il problema dello stoccaggio a dei prezzi molto alti che man mano stiamo rilasciando con delle aste e a un prezzo che certamente è inferiore e come tale c'è una differenza a carico dello Stato quindi quel tesoretto servirà anche per coprire quella differenza va bene e lei è uno dei ministri degli ambienti che guarda con il fumo negli occhi il nucleare posto che sarà difficile farlo oggi o domani mattina assolutamente no io sono convinto che andremo avanti col fronte dell'elettrico con l'idrogeno con i sintetici ma nel nel medio lungo periodo non l'Italia non l'Unione Europea ma il mondo deve trovare delle forme di energia aggiuntive e più avanzate chiaro in termini quando parliamo di nucleare parliamo di fusione o di fissione la fusione quella di fusione quella annunciata da Biden sull'esperimento un mese fa è un qualcosa che sarà tra 40 e 50 anni quindi ci rifacciamo il dibattito quel momento e valutiamo al momento si ragiona di fissione di cosiddette quarta generazione che non è neanche più parente mi si dice tecnologicamente di ciò che è stato votato nel referendum quindi ci potrebbe ripensare io credo che noi dobbiamo ripensare noi dobbiamo ripensare e non è il tema del referendum perché il tema del referendum riguardava comunque la prima e la seconda generazione che era un altro modo di fare nucleare questo è un nuovo nucleare il termine generico rappresenta tutto e il termine è generico noi dobbiamo andare sullo specifico il nucleare di quarta generazione poi non so dire se i giuristi citati prima gli avvocati dicono che bisogna fare un altro referendum o un arrevo del referendum ma certamente noi dobbiamo prendere in seria considerazione fin d'ora il nucleare di quarta generazione che dà dei margini di sicurezza decisamente maggiore e che può essere davvero il futuro di questo paese almeno fino arrivare poi alla fusione e trivellazioni si continua continuate o ci sono diversità di vedute cioè quel piano di trivellazioni che sta continuando nel senso che continua la norma c'è partirà la ricerca tra i 9 e 12 miglia c'è questo anche che il sistema di prenotazione messo a punto e pertanto è una è una valvola di garanzia che questo paese ha in una contingenza che è una contingenza ponte si è permesso inquadrare la situazione gas noi abbiamo l'emergenza l'emergenza dei stoccaggi la contingenza ponte che riguarda un anno due tre anni ma poi noi abbiamo il cambiamento del quadro geopolitico europeo può dare a questo paese una centralità da questo paese all'italia una centralità che non aveva prima perché prima c'era un fornitore russia e il passaggio dalla germania il passaggio comunque dalla mente all'europa oggi noi siamo in mezzo al mediterraneo abbiamo la provenienza dalla germania abbiamo una provenienza dalla libia che in questo momento certamente porta poco abbiamo un grande contratto con l'algeria che in questo momento ha sostituito e dico uso il termine in questo momento ha sostituito la russia ma un paese che vuole una centralità e che vuole avere la sicurezza energetica perché noi dobbiamo dare certezza deve avere una pluralità di fornitore non può dipendere da un fornitore o principalmente da un fornitore d'altra parte con la Tunisia Terna ha annunciato l'elettrodotto dalla Tunisia mettiamo i rigassificatori che ho citato prima perché sono la vera valvola di garanzia perché un gasdotto può essere interrotto sabotato comunque devemosi chiuderlo per marzo non lo chiudiamo per marzo e tutto questo tutto questo lo dico questo tutto questo ci permette non solo di avere la sicurezza come paese ma di diventare centrale come paese nella fornitura verso gli altri quindi di aprire un nuovo percorso per marzo Piombino si finisce no da ministro per marzo Piombino si finisce ma lei è sicuro guarda che la stanno ascoltando per marzo Piombino si finisce si eh star permettendo ma anche qui andiamo a star permettendo ma sto reggio decreto non lo conosceva sto reggio decreto io ho il primo sorriso quando mi ha parlato di reggio decreto perché io tanto perché gli faccio eseggi decreti a lei quasi quasi ogni giorno devo firmare una qualche opposizione da inviare alla presidenza della repubblica per documentare l'opposizione ai ricorsi al presidente della repubblica agli appelli al presidente della repubblica è una procedura di garanzia del paese poi naturalmente il parlamento e e e le riforme delle procedure costituzionali potranno anche però il tempo togliere questa prerogativa dice teniamolo ma riduciamo i tempi poi naturalmente la proposta è ridurla si può non si può abolire si può abolire beh certamente tutto si può abolire eh eh ministro guardi domani mattina mi devi fare un favore vada a vedere bene se questa cosa è l'abolizione di questo reggio decreto che fa un casino sempre che non ci sono motivi politici è un fatto che riguarda gli equilibri dei poteri nel nostro paese e quindi prima di togliere un potere al presidente della repubblica ah perché il presidente della repubblica sinceramente ci penserei ah 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 adesso ho capito un pochino di più poi si può dire il presidente della repubblica che ha un grande potere in questo caso vabbè poi ne parliamo bene dopo è l'ultima garanzia che può avere un cittadino il presidente della repubblica in questo caso perché può sbagliare il tribunale il primo tribunale o comunque l'organo amministrativo del primo grado il secondo grado e così via poi alla fine io non so più a che rivolgermi adesso è troppo tardi per poterlo affrontare una volta una volta c'era la supplica a sua maestà e oggi c'è vabbè siamo a livello delle suppliche è un casino però è una supplica è una supplica è una supplica è vabbè ho capito però se tutti possono supplicare poi dopo però esco da un campo di mia competenza non vorrei no 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 perché assolutamente due cose veloci però deve essere semplice su questa roba siamo morti tutto il giorno stamattina a parlare di queste comunità energetiche cioè si mettono un po' insieme e producono energia elettrica in maniera rinnovabile e si mettono d'accordo e quindi bisogna semplificarle no o sì sì bisogna semplificarle e bisogna farle partire in modo forte e siamo siamo in duritura d'arrivo per la notifica all'Unione Europea io credo che davvero queste siano le radici anche del futuro serve a far a rendere diffusa la sensibilità a rendere un'Italia libera di tanti produttori poi quello sarà il libero mercato della produzione può essere il libero mercato della produzione perché davvero significa diffondere radici di produzione ovunque io non so quante migliaia se ne attiveranno ma credo che se ne attiveranno molte migliaia ed è un passaggio importante perché significa poi tradotto anche ridurre la bolletta per i singoli delle comunità l'ultima cosa che riguarda molto noi della ripartenza sin dal primo giorno questa è una domanda delicatissima è questa gliela dico subito ministro l'avverto con i tam tam ed è questa roba della direttiva europea io dico franco stia attento che qua c'è solo la stanchezza ci porta a essere gentili con la comunità europea lei si è preso un bel punto su timmerman però adesso sulla comunità europea su questa direttiva che ci mette il bollino posto che tutti sono d'accordo di avere degli edifici che consumino di meno tutti noi vorremmo avere la classe A però insomma non ne sembra che la comunità europea che ci mette il bollino in sette anni sia un pochino allora questo mi permette anche di fare una precisazione che allora una precisazione tempistica questa è una bozza di direttiva del dicembre 2021 che ha chiuso tutta una fase di trattativa con il consiglio europeo il 22 ottobre del 2022 22 ottobre ha chiuso la parte di trattativa pura con un'espressione di orientamento da parte del nuovo governo italiano che aveva giurato il giorno prima ed era il giorno della fiducia in Parlamento che io non mi sono votato naturalmente ero già lì quindi credo essere uno dei ministri che non è neanche dato a votarsi la fiducia non c'è andato e no ero a Lussemburgo e in quel caso il consiglio europeo ha espresso un orientamento a seguito della trattativa che ha tolto una serie di step e ha dato un'altra serie di garanzie che sono i checkpoint nel 2033 nel 2034 l'obiettivo il 2050 con una serie di critiche che io nell'intervento ho espresso ma dicendo va bene l'orientamento quello che si discute adesso a partire dal Parlamento europeo non è quello che è stato votato al Consiglio europeo è la direttiva la bozza di direttiva originaria del dicembre 2021 perché riparte da zero il Parlamento farà il percorso e poi se arriva alla stessa conclusione io spero migliori del Consiglio europeo va bene e questa è la procedura ma il principio questo significa una cosa significa che il dibattito anche giornalistico è disassato su due temi completamente diverse perché lei dice quelli stanno ripartendo da una roba che in realtà il Consiglio europeo ha votato diversamente però ne stanno discutendo io sto generando la sostanza quella roba là come la consiglio allora sul principio sul principio io la considero come governo italiano quindi come operazione di mediazione dello Stato italiano nell'ambito dell'Unione europea perché l'isolarsi rispetto agli altri 27 non sarebbe stata una soluzione avremmo dovuto subire la posizione di altri paesi i paesi e gli altri paesi erano tutti erano tutti quelli del nord per capirci eravamo solo noi Croazia Spagna e pochi intimi quindi la considero l'obiettivo 2050 certamente è da perseguire poi vale il discorso del 2035 noi per il 2050 abbiamo abbiamo firmato a livello eh di paese eh le la neutralità eh delle emissioni quindi è considerato che il 40% delle emissioni i statisti ci dicono che vengono dalle dagli edifici è un percorso da fare questo percorso però dobbiamo autoregolarcelo noi la posizione che abbiamo tenuto a livello di consiglio europeo è proprio quella sull'autoregolazione e non è e non è è una tassa non è una tassazione o una sanzione sul singolo immobile e quindi sul singolo proprietario ma al limite è un ragionamento di infrazione sullo del dello Stato rispetto all'applicazione quindi 2050 è un'infrazione di Stato è un'infrazione individuale e comunque spero che ci siano delle deroghe lei non mi vorrà fare il palazzo il palazzo con una l'Italia ha chiesto un lungo elenco di deroghe che riguarda i fabbricati storici ad esempio i fabbricati storici in Italia ma lei si immagina a gubbio dovrà dovrà essere autoregolamentato del singolo paese va bene per raggiungimento di tutto ciò va bene ecco perché è un percorso e non è una norma non è un regolamento è una direttiva è chiaro delle comunità energetiche è fatta comunità energetiche settimana prossima vai in Unione Europea va bene abbiamo veramente fatto tardissimo sono 8-10 non so come ringraziare tutti quanti voi che avete resistito per tutte queste ore da questa mattina ringrazio tutti quanti coloro che ci hanno seguito numerosissimi in streaming ministro grazie davvero perché è stato un sacrificio per lei venire qua lo so bene ed è stato molto carino veramente grazie a voi grazie ministro Pichetto grazie a tutti